Se voi siete pronti, tutti ready. Allora, stop qua, questa musica è estremamente carina ma molto fuori contesto e let's go con Resident Evil Village. Allora, l'ho avviato per attivare il ray tracing, così ce lo giochiamo con la grafica. Che ne dite? Siamo pronti. Ah, me lo sono fatto mandare per pc, perché così appunto lo giochiamo in ray tracing, che è meglio. Esatto, mettete le cuffie, mi raccomando che questo è un horror, quindi è da giocare con le cuffie ovviamente. Ho alzato o ho diminuito il volume? Ho alzato. Dunque, allora, partiamo dal bonus, perché il bonus ci fa vedere il filmato riassuntivo di quello che è successo in Resident Evil 7. Io l'ho giocato, l'ho anche portato tutto in live, però i miei ricordi sono sempre vaghi, perché purtroppo, ragazzi, ho una memoria veramente terribile. Quindi andiamoci a rivedere un po' di cosine. Penso di ricordarmelo abbastanza bene, però. Ok, cosa dire? Mi chiamo Ethan, Ethan Winters. Gli eventi a casa dei Baker risalgono a tre anni fa. Stavo cercando mia moglie, che era sparita. Avevo una sua mail. È vero, me la ricordo lei. Voleva che andassi da lei. E sono finito in un posto sperduto in Louisiana. Ho trovato Mia. Era prigioniera in uno scantinato buio. Era fuori di testa. Mia? Mi ha attaccato come un animale selvatico. Poi ho scoperto che era stata infettata da una specie di muffa. Ho cercato in tutta la casa un antidoto, un vaccino, qualcosa. I suoi abitanti erano già infetti. Quel che ne restava non era umano. Alcune scene erano davvero fighe del set. A causarlo un'arma biologica con le sembianze di una ragazzina. Si chiamava Evelyn. Ho combattuto contro la famiglia. E mi sono procurato un siero per curare Mia. Poi Chris Redfield e i suoi sono arrivati. E ci hanno salvato. Può bastare? Sì? Non voglio parlare mai più di quello che è successo. Adesso andremo peggio. Ora è finita. Sentite piano? Ho diminuito le scene macabre perché nel sette la gente stava male. E vabbè. Ma in che senso? Non sentite bene il volume? Raga, tutto al massimo. Cos'è uscita audio tv? Cuffie. Oh, proviamo così. Su round virtuale? Sì, dai. Sì. Ho attivato anche il round virtuale. Io sento bene. Io sento bene. È basso. No, va bene. È basso. Ma che strano. Come mai ognuno di voi lo sente diverso? Io sento bene. Oh, fatemi controllare un attimo i volumi. Oh, meglio? L'ho alzato ulteriormente, però. Cioè, io ho già lì, già lì, li vedo, li vedo alti volumi. E se faccio così non cambia? Così com'è, scusate? Discretamente basso rispetto alla tua voce. No, vabbè, ma rispetto alla mia voce è normale. Però vedo proprio che non si attiva. È molto strano tutto ciò. Così come minimo è troppo alto. Non lo senti proprio? Addirittura? Ma ancora? Sentite poco? Raga, io ho il volume altissimo. L'ho alzato ancora. Prima la musica era bassa, ma era un momento. Sì, a volte si abbassa la musica. Ok, ho provato ad alzare ancora di più, ragazzi. Cioè, ce l'ho proprio al massimo. Eh, mi sa di Nomids. Purtroppo non credo sia... Non so se è stato registrato. Ho provato a guardare dalla pagina YouTube, ma non c'era più. Ok. Trovate ad alzare. Perché, cioè, io lo sento altissimo. Normale. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spoglie. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Quanto mi piace questa parte. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra i ragazzi e i ragazzi. Rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparvi allora il gran pipistro. La salutò con calore, mordendosi un'ala. Vieni, bambina, placa la tua sete, le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparvi allora lo scuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bel abito fatto di nebbia. C'è figata. Vieni, bambina, riscaldati, le disse. La piccola si vestita in sorrise con gioia. Grazie mille per la sub, ben arrivato, Benny. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparvi allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. Vieni, bambina, riempiti lo stomaco. Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Cioè, cos'è diventata sta bambina? Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparvi allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso, apparvi una strega, tenebrosa e regale. Figata! Bellissimo così! Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più, ringhio. Di più, ora ci è dovuto. In un lampo, venne imprigionata in uno specchio. Ecco. Ora dorme. Perché una storia così inquietante ha soltanto sei mesi? I libreri hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque, Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Uh! Sclera? Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare. Sa che Mia non sta benissimo. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora... Metti a letto tua figlia con prudenza. Ha fatto un cambio di mood che mi ha preso male. No, sta bambina è un toro. Cioè... Sei triplimenti. Tranquilla, Rosa. Tua madre non vuole ricordare. Me non la piaceremo. È la bambina di Dwight, ragazzi. Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Vai tranquilla, Mia. Fa tutto benissimo. Non c'è motivo di turbarsi o di fare questi scatti. Tiracondi. Giusto, Mia? Non avvicinarti troppo mentre cucino. Raga, questa si gira col coltello. Io c'ho l'ansia. Allora... Dov'è che si sale? Ci saranno delle scale per la stanza della bambina. Credo che siano nella dispensa. No, infatti, forse vuol portare... Aspetta, però c'è qualcosa nella dispensa. Mia prepara tutto in casa e la roba si accumula. Cioè, nel senso, fa gli omogenizzati fatti in casa? Che va pur bene, per carità, ma... Non è che va male sta roba, vero? Non so quanto sia effettivamente saggio preparare gli omogenizzati fatti in casa e inscatolarli. Cioè, sai, salmonella, malattie, no? Cioè, non mi sembra proprio... Cioè, un conto, sai, farli con ingredienti freschi, dici, va bene, ci sta, però farli e inscatolarli, non mi sembra proprio una buona idea. Esatto, infatti, ecco da dove si è scatenata la muffa. No, credo non sia... Cioè, addirittura dicono di stare attenti anche a fare le conserve in casa, perché comunque, sai, le cose non sono sterilizzate, quindi non sai mai, potresti avere colonie di batteri facendo le converse fatte in casa. Figuriamoci gli omogenizzati per una neonata. Fala brava, l'ho detto a mamma, quella favola fa troppa paura. Siamo tutti d'accordo, però era molto bella la favola. Ci siamo quasi. Fala questa. Oh, che bella stanza. Ma una stanza gigantesca! Cioè, raga, la stanza di questa bambina è grande quanto casa mia. Ah, ma no, aspetta, è la loro camera da letto. Ok, è comunque gigantesca. Esatto, sopravvivono agli zombie e muoiono di intossicazione alimentare. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Beh, esatto. No, no, ma va bene. Ah, ok, no, forse ha ragione Serefiano Zorri. È vero. Probabilmente intendeva che quelli sono gli omogenizzati che lei comprava, ma tanto non li usava perché li faceva fatti in casa. Ah, allora sì, ha senso. No, hai ragione, hai ragione. Sono io che ho interpretato male. Hai ragionissimo. Tra l'altro c'era l'etichetta con i bambini, quindi a meno che lei non abbia una stamperia. Effettivamente. Ha senso quello che dici. È super paccioccona la bimba, Pantera. È gigantesca. Però sai quei bimbi grossi? Sì, le case americane sono molto grandi. Beh, hanno molto spazio, ragazzi. Hanno molto, molto spazio in America. Guarda le foto della bimba. Ah, cosa sta preparando Mia? Queste bottiglie, raga, quante sono grosse. Cioè, sono tipo grandi quanto metà al corpo di Mia. Sì, dorme come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba di legume. Una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera... Sì, alle magnum. C'era una bottiglia grossa così. Sì, smettarla di preoccuparti. Che ritrovarti in Louisiana. La gravidanza. Chris che ci manda qui. L'addestramento militare. È successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che... Adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Mia! Ma che cazzo dici? Ma... Ma Purina è sopravvissuta tutto il sette! Me l'ammazzano così! Chris! Ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Lo sto capendo. No, raga, ci sono rimasta malissimo. Ma scusami, era lui che li aveva salvati. Sì, e poi l'hanno triturata praticamente. Cioè, bastava un colpo. Cioè, vai lì, un colpo. Cioè, c'era bisogno di... Che cazzo vuoi fare con mia figlia? Non segna il sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan! No! Ma spiegami magari? No! Vedete perché succedono i casini nei videogiochi? Perché la gente non parla. Cioè, che gli ci voleva dire? Guarda, adesso ucciderò tua moglie perché, non so, magari è contagiata, magari ha dei problemi. Porterò via tua figlia perché probabilmente è figlia di Satana, è un mostro. Però c'è spiegare... Ethan! No! Ho capito, gli hai appena trucidato la moglie davanti alla faccia. Cazzo... Vabbè. Dottoressa! Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti. Io vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo. Ci saremo. La fa se il piercing. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolti. Sì, positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! Penso a te! E non capisco... Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto. Coraggio, parlami! Devo rispondere. Devo rispondere. Probabilmente gli stava nascondendo qualcosa. Cioè. Cristo. Di cosa stai parlando? Dov'è Chris Redfield e Rose? Saga, ma sono morti? Questo è un canale riservato. Non ho l'opera di andare da un'occasione. Cazzo. Perché sono tutti morti? Come diavolo è successo qui? Ve l'ho detto che quella bambina era figlia di Satana. Cioè, questo è il tizio. Ma cos'è? Non capisco se è carbonizzato. Obiettivi della missione. Eliminare il bersaglio. Recuperare il corpo. Portare via Rosemary e Ethan Winters. Ah, eliminare il bersaglio e recuperare il corpo intendevano quello di Mia. Ovviamente. Portare via Rosemary la bimba e Ethan Winters. Trasportare i due Winters al sito C per effettuare ulteriori indagini. Necessari almeno due agenti di scorta. Che evidentemente non sono bastati. Raga, ma qua ha fatto esplodere tutto. Cioè, c'è stata un'esplosione qui. Magari non è stata la bambina. Magari è stato qualcun altro che voleva la bambina. Ah, comunque c'è attivo il retracing, raga. Quindi, graficone. Seguiamo le tracce nella neve. Sì, probabilmente servivano più agenti. E serviva un camion un po' più blindato. Un camioncino, un furgoncino blindatissimo. Mi freddo per lui. Ok, direi Crouch. Fanno il filo spinato. Eh, vabbè, c'è Ethan però. Si chiama filo spinato per un motivo. Una frana? Sta franando tutto qui. Madonna, mi sono cagata addosso. Maxorium, grazie per i tre mesi. Cavoli, ho alzato il volume tantissimo per farvi sentire bene, ma anche gli alert in questo momento sono sulla luna. Grazie mille, Maxorium. Bentornato. Ma che è sta roba? Ma perché... Ma ci sono dei corvi impiccati. Appeso dei corvi. Cioè, questo era vivo. Questo è vivo. Immagino di non poterlo liberare, ovviamente, perché non ho niente per farlo. Pensate che è figata sto gioco che dovrebbe... Cioè, col VR sto gioco dovrebbe essere bellissimo. Ma no, cappellaio. Poi come faccio a sentirli, se no? Mi sta facendo male il piercing. Non capisco perché. Ogni tanto ci sono sotto. Guild Wars 2, polpetta. Adesso Guild Wars 2. Mario, grazie per la host, per il ride. Grazie mille, bello. Abbiamo iniziato adesso Resident Evil. Bellissimo. Oh, vai. Case. Non si vede niente. Ma come, raga? Ma l'audio degli alert non rovina, non rovina il mood. Al contrario. L'audio degli alert è la cosa che fa più cagare addosso del gioco. Ve lo assicuro. Nel corso di questi anni mi sono spaventata molte più volte per gli alert che effettivamente per i giochi. Ah, delle belle corde che probabilmente sono state utilizzate per impiccare i corvi che abbiamo visto fuori. simpatiche corde. Voleva lavarsi le mani. Non so per quale motivo provare ad aprire il lavandino. Forse perché si è ferito prima col filo spinato. Quindi poteva aver senso. La casa era di qualcuno che uno non puliva, due prendeva molte pillole. Il letto, tra l'altro, lo vedo. Tutto bene? Ok, era di proprietà di una signora arcolaia. Arcolaia? Una filatrice, una tessitrice. Insomma tutto all'arcolaio. Non credo si dica arcolaia. O è passato estremamente tanto tempo da quando la signora viveva qui o ha dei problemi di igiene. delle scale e nulla cosmico. Ok, scale. Aglio appeso? Per la cucina o per la scaramanzia? Sapete, no? Che si usava appendere corone d'aglio contro gli spiriti. Le abbiamo studiate queste cose quando vi ho portato folklore. Lo facevano non solo contro i vampiri anche proprio in generale contro gli spiriti. Bello. Sì. Per nulla inquietante. Bello, bello. Bel ritratto da tenere in casa. Sì, probabilmente è per la cucina perché siamo comunque come dicevi in una cantina. Si vede che stavano stipando del cibo. Bene, c'è del sangue. Sarebbe saggio girarsi e andare via. Ma lui è Ethan quindi lo aprirà. Sì, vabbè, è un topolino che fa quel casino. Dai. Soprattutto quel sangue da dove arrivava, scusami. C'è sangue anche qua dentro? Oh. Ah, sta crollando tutto? Ok, ragazzi. Meglio levarsi di culo. Questo cervo dov'era? Tutto dalla parete. Se spengo le luci però ho paura che non mi vedete. Cioè, se spengo le luci i casi non vedete niente. Se volete io le tengo spente ma non mi... Non so, non mi vedete. Cioè, per me è meglio perché così vedo anche meglio io, però. Vai. Che bello, mi hanno chiuso qua dentro. Ah, non vedevo l'ora di strisciare in mezzo al sangue. Che gioia. Sì, adesso ci ha messo un attimino la telecamera ma evidentemente è vero che ho un obiettivo di Dio che anche se è buio si è adatta alla luce. Bravo obiettivo. Cos'è successo? Molto bene. Non sto lasciando tracce sanguinolente. Sono un po' delusa da questa cosa. Sembra che ci sia più luce di prima. Perché in realtà anche se la stanza è estremamente buia il mio obiettivo riesce perfettamente a mettere a fuoco. Comunque mi sono dimenticata di cosare le resine su Genshin. Quindi vabbè lo metto un attimo sul telefono. Eh sì, sicuramente avrà toccato del sangue infetto. Molto probabile. più che altro capire se siamo nella stessa epoca storica. Wow. È bellissimo. raga, è stupendo. Guardate il sole che sta non so se sta albeggiando credo sia l'alba albeggiando dietro alle montagne. Stupendo. Wow. Ah, su PC hanno fatto un lavorone. Molto, molto bello, sì. Uh, sto cavallo massacrato. C'è le paperelle, c'è le paperelle che regala la sabba al latte i paperelle. grazie mille, ce le paperelle. E latte i paperelle, benvenuti. O benvenuto. Grazie mille per il supporto. Cioè, ve l'ho detto, raga, fanno più paura agli alert del gioco. Non c'è nessuno. Questa era la zuppa di mia. Who's this? o di nuovo di nuovo quel quadro? Anzia. Una serratura facile da scassinare. Eh, come la scassino però mi servirà qualcosa per scassinarla, immagino. ok, quindi dobbiamo trovare degli arnesi dobbiamo trovare, dicevo, degli arnesi da scasso. Farà sicuramente la mia priorità scassinare quel cassetto mentre vedo trascinare via corpi di persone. linghe. Chi è? Allora? Serve qualcosa? Fienile? Magari sono, li hanno buttati qua dentro gli arnesi da scasso, no? Presente il detto del lago nel pagliaio? Adesso dovrebbe essere un bagno. No. Ok. Di solito ci sono le latrine. Sì, probabilmente è un'ex latrina. Non entrare. io ascolterei il consiglio sinceramente. Cioè, così. Hmm. Qualc'è il vistello grosso. Ciao, real belial. Ben arrivati, ben arrivati a tutti, guys. Abbiamo iniziato da poco, quindi ancora non vi siete persi molto. Ethan si è appena risvegliato. Gli è stata rapita la figlia, gli è stata uccisa la moglie e si è svegliato in questo posto. Senza sapere né perché né per come. E sto cercando degli arnesi da scasso. chiuso. Sì, questa sembra anche a me la zona della demo. Cioè, non precisamente quella della demo ma un'altra zona vicino. Simboli strani ai muri. non c'è niente. Chi è? Sembra esserci qualcuno di sopra. Oh, che ci fa questo qui? C'è una colla con una scimmietta. Una normalissima giornata, esatto, Alessia. Una normalissima giornata per Ethan Carter. Ok, musica strana, altri corvi appesi. Ehi, là c'è qualcosa. Ah, speravo di trovare magari degli arnesi da scasso. Niente. È stato un incidente qua che ha bloccato la strada. Sì, scusami. Era Ethan Winters. Ethan Carter è quello di... dell'altro videogioco. Sì, c'è un altro gioco che si chiama Ethan Carter. Sì, questo è Ethan Winters. Sì, comunque è sempre gli Ethan di mezzo. ci sono. Cosa hanno fatto? hanno appeso una capra. Tra l'altro è fresca. Ancora sanguinando. Sappeti persiani. Cioè, io sto pensando già che dopo mi toccherà tornare indietro per andare a aprire quel cassetto. come minimo non ci sarà niente dentro quel cassetto ma il solo fatto che era chiuso mi spingerà a volerlo aprire perché sono curiosa come pochi. Ah, un'altra bellissima latrina. Sento delle galline, vive. Gallina! No, la porta è chiusa. Ah, questa la possiamo anche chiudere. Vado. Ciao, Alpachinox! Grazie mille per la sub. Benvenuto, Alpachinox. Scatta il gioco? Vi scatta? A me va liscissimo. Vedete, vedete scatti? Perché ho attivato RTX e grafica pompatissima. Magari devo abbassare un pelo. Liscio? Non mi sembra che scatti. Ok. Ok. Eh, forse perché sono in live. Ok, thanks. Se scatta, avvisatemi in caso perché ho sparato la grafica a mille per mettere l'RTX appunto. Mi sembrava figo. Coltello. Abbiamo un'arma. Non siamo più disarmati, è già qualcosa. A te scatta? saranno scappati via all'improvviso. Ah, forse sì, raga, ma magari ero io che facevo passettino passettino, eh. Sono io che faccio i passetti. no, ma sono io, raga, che cammino a scattini. Non è, non è, non credo sia il gioco. merda. Ah, mi hanno chiuso dentro. Ok, non trovare, ah, c'è la cassa, guarda. Soluzione medica. Inventario si apre con tap. Voilà, che inventario immenso che abbiamo, sì, ricordatemelo quando sarà full fra due secondi. Ho appena detto che abbiamo un inventario immenso. No, no, calmo, calmo. Che sei? Chi ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? Sei te, cretino che hai sparato. Oh, no. arrivano. Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma. Sì, ho un coltellino. No, dimmi cosa c'è là fuori. Ehi. Vuoi ascoltarmi? Ehi. Il fucile. Il fucile, Ethan. Ethan, il fucile. Sì, che bello, c'è il sangue, piove sangue. Fucile. Merda. Tu lei. Eh, raga, i tempi di reazione dei personaggi degli horror. Dio santissimo. Guarda, hanno appena preso il tipo. Un catamere. C'è, cazzo, c'è un fucile, prendilo. Ce ne sono altri. Hai visto? Abbiamo trovato la mangiatoia degli zombie. Che bello. Salve. Salve. Mi dispiace, sono arrivata troppo tardi. Lei, signore, tutto bene? Perché dovrei interagire con la sua testa? Ah, spostarla, giustamente. Riposi in pace. Mi sa che Cristo ha poco a che fare. ma mi ha staccato una mano. Che schifo. ma per quale motivo c'è lo zombie di Bob Marley che è più il primo a Space Guardia? ma guarda come si abbassa il bastardo. Perché non ho preso il fucile? Ma dai, l'ho colpito prima! Non vale, l'ho colpito prima! Niente. Improvvisamente sparisce il sangue dalla mano. Oh, alleluia. Prendi il coltello, prendi il coltello, prendi il coltello. controlliamo che sia effettivamente morto. Non mi fido. Sì, ok, è morto. Gianfri, grazie per il trentunesimo mese! Grazie, Gianfri! Grazie millissime per la risav. Eh, da un po', Luciano, un'oretta. Sì, me la son vista, raga, la mano mozzicata. Quella potrebbe essere problematica, più che altro, perché credo sia infetta. Ho questo dubbio. tronchesi. Tronchesi sono utili per un sacco di cose. Possiamo aprire i cancelli, quelli che avevamo passato prima. Fluido chimico. Ah, ma, hanno fatto degli inventari diversi? Foto di famiglia? Foto di famiglia, una foto di Mia e Rose. Ah, così? Ok, abbiamo le tronchesi, tesori, niente, va bene. ci servono le piante. Ah, soluzione medica con pianta e fluido chimico. Ok. Abbiamo la pianta, quindi ci conviene già craftare pianta più fluido chimico. Vai, soluzione medica. Oggetto creato. Facile. Praticamente ci basta cliccare sopra adesso. Facciamo anche delle munizioni per la pistola, in caso. O forse no. Magari possiamo anche tenere i materiali finché non siamo full. per vedere se effettivamente poi ci possono servire anche a fare altro. Easy. Ok, qui rientriamo nel villaggio. Prima di tornare indietro vorrei vedere se troviamo gli arnesi da scasso. Una persona intelligente andrebbe da un'altra parte, giusto? Non lì dentro. può sbarrare l'entrata usando gli scaffali. Eh, ti ho risposto prima, Luciano, iniziato da un'oretta. Non si sente nulla. grazie, grazie, l'hai spenta. Sbarriamo. Giustamente. scale marcite. Da dove proveniva quel sangue che mi è piovuto in testa prima? Oddio. Oh, ciao! Max TGM! Grazie mille per i bit. Thanks. Grazie, grazie. Ma io mi levo di culo! E che cacchio! L'ho spinto via, raga, ma questo mi morde lo stesso. Ma quanti sono? E come saltano, soprattutto? per quante volte gli do sparare, oh! Cos'è sta roba? Cranio cristallizzato. Ah! È un tesoro? Finiti. Ma ho i miei grossissimi dubbi che siano finiti. Erano 12.000. Però forse ho ucciso il loro capo. Magari avendo ucciso il loro capo gli altri non torneranno. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa vicino ai campi. Sopravvissuti. Ha detto venite a casa di Luisa in mezzo ai campi. Tu dici che non sono zombie, può essere. Intanto, Emris Joe, grazie mille! Grazie per i... per il ventesimo mese di Resav. No, ma probabilmente infatti sì, raga. Aspettate, datemi un secondo che... Ah, ancora. Devi resinare. l'ho aperto sul... sul telefono così non interrompo il gameplay. Yes. Perfetto, basta. A vederli così non sono zombie? Beh, oddio. Gli ho sparato 12.000 volte in testa. Se non sono zombie... mi sembro... Cioè, se lo so zombie cosa sono, scusate. La resina prima di tutto, assolutamente. Devo ricordare poi di andare a visitarlo, Platio. No, evidentemente lui non sta morendo di sanguato pur avendo solo mezza mano. Vabbè, sappiamo che Ethan può resistere a ben di peggio, eh. Mi sembrano olicantropi? Chiusa dall'altro lato. Come? Avevo appena fatto il giro. Non capisco se devo fare piano per non allertarli o se me ne posso sbattere. Mi sento ringhiare. Allora, questa la apriamo che non si sa mai. Metti che, boh, abbiamo bisogno di fuggire velocemente, almeno quella è aperta. Oh, shit. Ma se lo attacco io prima che mi salto in testa... Non è stata una buona idea! Cazzo. Non sanno dove sono. No, non è stata una buona idea. Tu non mi vedi, non sai dove sono. Non puoi vedermi. Shit, lui sì, mi vede benissimo. E tra l'altro come minimo le munizioni saranno lì. No, sì, ciao, domani che lo colpisco quello. Ma cos'è che ha quello? C'è una mezza nella schiena. Se mi attacca a quello sono rovinata il fucile! Hmm, venite, figlioli, venite! Non finiscono mai! Non finiscono mai? Sono anche qua, per caso, no? Perché io ho un fucile ora. Sono pieni di farina. Interessante. Polvere da sparo. Questo sicuramente è il più interessante. Potrei dare fuoco alla farina, lo sapete, la farina prende fuoco. Bastardo, mi ha fregato l'altro. Sono i maceti, ci hanno questi, sono pazzi. Oh no, non ho più munizioni. Oh no! Oh no! Nice! Niente, questo raga non muore. Ok, si è morto, ma non ho abbastanza munizione anche per questo! Oh no! Oh no! Non l'avevo ancora ricaricato! Ricarica! Oddio! Non ci credo! Nel culo! No, anche questo no raga! Non si smettano più! E a me! Sono mortissima, sono mortissima! Sono stra-mega-morta! e non ho più munizioni di sicuro! No! No! Sono un po' troppi, non mi posso più difendere! Oh, ma qua ci sono cose però! Oh, scala! Prendi se scala! Allora, che devo fare con sta merda di farina? Ok! No, 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 non è una buona idea! Sono dentro, sono dentro! Non è vero, sono fuori! Chiudi, chiudi, chiudi! Ok! Devo craftare munizioni anche se non mi sembra un buon momento! Ok! Raga, ansia! Allora, sì, non ho gli scarti, ho finito le munizioni! Ok, raga, sono fottuta! Ma pure lui! Sono tipo troppe, comunque! Da che dovevo scegliere i miei nemici con cura! No, 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 non toccarlo quel robo lì! Aspetta, qui c'è qualcosa! Oh sì, munizioni! ricarica! Ricarica, svelto! Sto facendo topolino, topolino con questo zombie! Questo da dove è arrivato? Ok, no, non sembrano zombie! Cioè, quello è a cavallo! No! Ma sei serio? Ma che cacchio sono? No, avete ragione, non sono zombie! Cioè, non sono stupidi! Sono senzienti, sì, sì, sì! Che è questo? Ha un terzo di mano! Una freccia nel ginocchio! Una volta era un guerriero! Sono mannari, dite, può essere! aspetta, aspetta, è stata la strega, ma vai via! Bene, allora, andiamo a raccattare il loot del combattimento, perché comunque un po' di loot ci deve essere, cioè, alcuni li abbiamo fatti fuori. Allora, questa roba è esplosiva, o comunque prende poco, questa è chiusa, serve una chiave. Da dove vengo io? Da qui? Sì, sì, ok, era questa la casa. No, non è vero, non era questa, c'è una cassa. Crudio chimico, evviva! Piantina verde, perfetto, ok, siamo a cavallo. Vai, creiamo risorse. Ah, ma ne avevo più di uno, in tutto ciò. Vabbè, usiamo la una, dai. Adesso non ricordo quanta vita ho, dov'è che la vedo la vita? Eh, sono sommessa benissimo. Vabbè, dai, se c'è bisogno la prendo. Magari non c'è bisogno di prenderla. Valide esplosivi. Colpisci i balleri rossi per generare grandi esplosioni. Ok, non mi sembra una buona idea in questo momento. Lo teniamo per dopo. dovesse succedere qualcosa. Let's go. Io sto ancora cercando un grimaldello o, insomma, degli arnesi da scasso per poter aprire quella, quella porta che era rimasta indietro. Proiettili, evviva! Ricarica. Ok, nice. Volendo potremmo anche chiuderli qua dentro e poi fare sull'odere tutto. È un piano. Sento i campanellini tipo le renne di Babbo Natale. Proviamo qua. Altri proiettili. Nice. Devo usare un oggetto qui. Non delle tronchesi perché non le ho. Tra l'altro no, sembra mancare una ruota dentata per far muovere l'ingranaggio. Farina. Ma qui è dove ero prima? No. Ah, sì. Sì, sì. Qui è dove sono fuggita. Dove ho sconfitto quegli zombie. Eh, ce ne avevo i tronchesi ma evidentemente sono a uso unico. Non lo so, guys. Sai che si usano una volta sola e poi basta? Tanto mettiamo le munizioni nel fucile. E no, è pronto. Caso dovesse succedere qualsiasi cosa. Un frenino. Eh, sì, qua riapro. Ok, qua non vedo nulla qui di via. Segui il sangue, però io adesso ho delle cose che prima non avevo tipo il tronchesino anche se non credo di poterlo utilizzare qui perché vediamo un attimo gli oggetti allora. Beh, oddio, con le armi siamo messi abbastanza bene. No, non voglio scartare assolutamente l'oggetto. Lo voglio spostare. Non si può spostare la roba? Ah, scusami. Ah, shift è sposta. Ok. Ok. Volevo un attimo ottimizzare. Conferma F. Ok. So perché non mi sembrava messa nel migliore dei modi, secondo me si può, no aspetta, si può ottimizzare tutto ciò. Ok. Se iniziamo già a farlo adesso avremo meno problemi dopo. Oh beh, oddio, può stare qua. O qua. Meglio qua. Poi, allora, oggetti che si sono da craftare. Solo foto di famiglia, non c'è altro. Salviamo. Ah no, c'è l'autosalvataggio, è vero. C'è un mulino. Ah, è da dove è arrivata la strega. Ok. Andiamo. poverina, mi stanno aspettando qua da sei anni. Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi. Non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Ma la vedi come è vestita? sei tu, il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, Rose, sì. È in grave pericolo. Lo so, la rapida. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata all'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? Ah, quindi c'è la madre Miranda a sua figlia. La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose, è qui. Cerca Rose. Ma credevo fosse la missione proprio fin da subito. Sì, ma lei adesso mi ha chiuso di qua e io non ho potuto aprire e scassinare quel cassetto. Mi rimarrà per sempre in mente. Vabbè, prima o poi secondo me ci potremmo tornare. Cos'è questo santuario? Sì, che tra l'altro in mezzo alle iconografie sante c'è di mezzo sempre quella cosa. Non so cosa sia. Riti pagani. Eccellente. Sì, mi pare sia venerato. Tra l'altro ah, bene. Cioè, abbiamo due corone di, due corone d'aglio che incorniciano questa cosa. Potenti leak al leggendario lupi mannari dire passate servitevi delle nostre carni lacerate i nostri corpi. Mi invito a un banchetto praticamente. Goloso e inquietante. Serratura facile da scassinare. Eh, se avessi qualcosa per lo scasso. non credo sia madre Miranda. me la ricordo diversa almeno. Ah, ok, questa era la parte della demo. Vergine guerriera. Cosa sono? Cioè, ci fa vedere gli oggetti? Dove sono? Ah, no, ci dice, ma bellissima sta cosa. che bello. Hanno fatto una roba per le persone smemorate come me. Così adesso so dove posso andare a scassinare. Vedete? No, aspetta. Mi dice che ci vuole un grimaldello, non che c'è un grimaldello. Chiave con stemma di ferro. Sì, sì, sì. Ci dice praticamente che dove possiamo andare a aprire determinate cose così uno non deve girare sei anni senza sapere. Ottimo, buono, buono. Ciao Rob, buongiorno. Mi è piaciuto un sacco il video del Dimitrescu World. Sì, i ragazzi l'hanno postato su Discord. Chiusa dall'altro lato. Farà sicuramente una scorciatoia in qualche posto. Chiusa dall'altro lato. Ah, questa qua è la Vergine Guerriera. L'occhio di quella capra brilla. Non brilla più. Ah, ho preso un frammento di cristallo. Ehi! Mi ha dato un frammento. serve qualcosa. Ci serve una manovella lì. Chiusa. qui posso passare sotto, mi sa? No. No. andiamo al tempietto. Offriamo queste capre tutelari per proteggere il villaggio e i suoi abitanti. Chi le distrugge sentirà su di sé la collera di madre Miranda. andiamo al tempietto. Vabbè, tanto sarà già incazzata con me. Cioè, a mia figlia. Mi arrabbiati pure. Tanto già le sue ire. Cioè, ira più, ira meno. E già ira conta nei miei confronti. Ma come si apre qua sto coso? Cioè, scusate, questa mi ha rapito la figlia e io devo stare lì a pensare ai suoi sentimenti e a non farla arrabbiare. ma mai nella vita. Vai, intanto craftino. Fatto un'altra soluzione medica. Sa che una mi converrebbe usarla. Usiamola, va. Ripolliamo. Che non ero messa molto bene. Bene. Allora, questa porta mi sa proprio di santificazione. Castello Dimitrescu. Caproni, su caproni, su caproni. Cosa potrebbe andare storto? Allo? Che belle porte intarsiate. Wow, ma sono tutti i templi qui, mi sa. Ah, che bella madre Miranda. Cos'è bella. Ma cos'è? Aspetta. L'altra volta non li avevo potuti esaminare bene perché avevamo il rilevo della donna, ok. Avevamo poco tempo, dovevamo fare tutto velocemente perché c'era il timer. Adesso possiamo prenderci il tempo per controllare le cose. Ma l'avete vista quella specie di bambina sposa cadavere? Cattissima. Se la tragedia si abbatte sul villaggio, cerca i pezzi del basso rilievo. Uno è custodito in chiesa, l'altro è a casa di Luisa. Non posso guardare dietro, tipo. aspetta. Chiesa? Casa di Luisa. Dobbiamo trovare i basso rilievi. Uh, finalmente si può salvare! Oh, che bello che hanno messo la macchina da scrivere come una volta per il save. I like it. Mi piace quando vengono mantenute le tradizioni anche nei giochi moderni. Controlliamo tutte le tombe che non si sa mai. magari c'è qualcosa nascosto in qualche lapide. Dici manca un oggetto. Qua ci serve la chiave. Prendo uno yogurt. Adesso. Adesso. Grazie a tutti. Sì, scusate, raga, era Ponizu che parlava, sorry. Infatti gli ho chiesto di abbassare un po' la voce perché, sai, è un horror. No, qui è dove siamo appena entrati. Neo, invece a me dà fastidio. Cos'è qua? Questa non l'abbiamo controllata. Oh, bene, mi sa che ne abbiamo attirati altri. Ok, pensavo di non poterne prendere perché pensavo di averne troppo. Una mina? Una mina? Ci vuole buio pesto? È una porta-finestra. C'è un problema strutturale, non è una finestra. Anche se tiro giù le tapparelle non posso tirare giù tutte perché comunque i gatti devono uscire. Vorrei andare ma forse torno indietro. Però qua abbiamo già controllato tutto, no? Niente, andiamo, andiamo. Ci vado piano piano, no? Cerco di andare super stealth, magari non mi vedono. C'è della farina qui. Io punto al loot e basta, cioè, per me loot è sacro. Seguo la via del loot. Ok, ce n'è uno estremamente vicino. Pagio piano. Non è vero? Hai sbagliato persona. Quanti sono? Vai, olio cuore, please. Olio cuore di nuovo. E adesso lì ho cuore. Mi nascondo qui nell'angolino. Ok, forse no. Magari se li vedono morti funziona da deterrente. Ok. No, raga, cacchio. Ho premuto control, mi son curata per sbaglio. Invece che C ho premuto control per abbassarmi. Dovrei abbassare il tasto delle cure perché mi viene da premere control. Per il crouch, che in alcuni giochi non è su C, ma su control. Zubanano. L'arri potrei mettere su H. L'arri potrei mettere su H. Ok. Me ne ria attraversare. Eh, ma il multitask di solito l'uso per gli MMO, non per questi giochi qua. Knock, knock. Chiudi la porta, ti prego. Ehi, cosa ci fai qui? Stai indietro. Ti prego, non farci del male. Ehi, tranquillo. Non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. E stai a parte della demo. Ci sono altri sopravvissuti. No, sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde. Il cancello è chiuso. Stai zitta. Non è uno di noi. Già che non puoi fare tanto lo sfittinoso, amico. Lui ce l'ha fatta, Minara. No. Uno dei mostri l'ha ferito. Ha perso molto sangue. Dobbiamo entrare in casa di Luisa. Ssh, piano. Troveremo un modo. Restate qui. In silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Scusate, avevo fame. E la madonna, raga. Una barretta? Resisti, papà. Presto dobbiamo fare qualcosa. Il lutto. Sceldini. Il lei. Il lei è una moneta rumena? Mi pare di ricordare questo. Ma magari mi sbaglio. Teni il fluido. Non è che bravi. Ogni casa con la sua latrina. Uh. Ci sarà una capra. Vediamo se... Oh, intanto apro questo. Che non si fa mai. Però c'erano i mostri dall'altra parte. Forse non è proprio... Andiamo, via libera. È una buonissima idea. Presto. Ma aspetta, io volevo uccidere la capra a tutelare. Te la sei presa comoda. Non c'è di che... Mi ha fatto il giro. Sì, amico. Prima. Oh no, non è uno di noi. Non lo vogliamo. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Vedremo se lo perdonerò. Mi saremo al sicuro. Vero? Sicuramente. È meglio che là fuori, questo è certo. Ciao, ignorante che insegna. Grazie per l'host. Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Padre. Aiutami. Dobbiamo entrare subito. Dammi un attimo, ci apriamo una capra tutelare da uccidere. Il lievo della donna, foto di famiglia. Oh no. Non c'è una capra tutelare qua dentro. Prova a resistere ancora un po', papà. C'è un pezzo che mi serve. Signorina, arrivo, eh. Vi dia un secondo. Devo lutare l'area. Devo controllare che non ci siano minacce. Cammino. Questa è chiusa. Venga, signorina. È tutto regolare. Salve. C'è nessuno? Forse ha una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io! Elena! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui che è un amico. Sta indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà. È pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Tipica ospitalità di paese. Sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego. Di qua. Non sei di questo villaggio? No. Sono Ethan. Da cosa l'hai capito dalla mano mozza? Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai. Beh. Se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure Ethan. Ah, ingenua donna. Aspetta qui. Vado a parlare agli altri. Molto serena per essere in una situazione come questa. Devo dire che capisco di più la reazione di Julian che quella di questa signora. Luisa. Ci hanno aggredito di nuovo. Hanno attaccato il bestiame. Di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito. Non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda ci ha abbandonati? Oh, finalmente possiamo controllare le foto che l'altra volta ho un pochissimo tempo. Sì, però, se me le fai vedere... Di qua. Arrivo, signora. Mi dia un attimo. Devo farmi i cacchi vostri. Sono delle bellissime foto. Saranno tutti i luoghi che visiteremo, probabilmente. Entra pure. Ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero! Vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi. In tutto il villaggio. Da freddo. Soltanto noi. Soltanto noi. Un paragrafo super buio. Cioè, veramente... Non c'è nessun altro! Un inutile... Invalido... Stupida... Troia... Lagnosa! E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che siamo al sicuro! Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! Vabbè, raga, è il ticcio. E domani... Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Sì, è sbronzo marcio, guys. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo! Sei già chi vota! È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma... All'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi... non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori... da qualche parte... a cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Me la vedo male. Oh, altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono in tempo e chiera. Noi vi invochiamo, persi in tempi eterni, perché ci abbiate le mani del fatto, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, comodiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. prendiamo gloria, prendiamo gloria, madre di Miranda. Una poesia positiva, una poesia, una preghiera positiva. Il test sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera. L'ho già sentita. Da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. Quella stranza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Questa scena è crudissima. Ci succederà! Dobbiamo scappare! Mamma mia! Ah, ma non interveniva lei l'altra volta? Lascialo andare! Elena! Adesso, vacca! Oh, mio Dio! Mi ha aperto un cratere. Mi spiace, padre. Ehi! Ehi! Ormai non era più tu, padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena! Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No! No! Oh, qua eravamo con la demo. Eravamo arrivati qui. Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No! Ne usciremo vivi. Insieme! Ok. Oggetti. Devo uscire di qui. Vediamo, vediamo cosa abbiamo. Allora, fuggi dalla casa. Niente. Nulla di nulla. Ci servono le chiavi. Vedo niente con cui poter interagire. Qui è crollato tutto. Dobbiamo oltrepassare la porta. Ah, già. Ok. Apriamo altri cassetti. Questi mi sembrano. Nella demo erano tutti vuoti, però, ecco, dicevo, magari hanno messo qualcosa. Soldi! Se ne hai bisogno, c'è un cacciavite nel portachiavi. Allora, aspetta. Cacciavite. Ok. Vizioni. Ricarichiamo anche la pistola. Spero di trovare presto un caricatore un pochino più ampio, perché questo è veramente piccolino. Non trovo giusto se c'è qualcosa qua che non si sa mai. Nope. Magari consumabili. Chiave del furgone. Non so se possiamo usare il cacciavite per scassinare. Possiamo provare. Sto indietro. Con questa possiamo scappare. Di sicuro abbiamo fatto un bel po' di rumore. Eh, non si è aperta la porta. Non abbiamo più tempo. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Muoviamoci. Tranquillo. E non respirare il fumo. Lo so. Ho capito. Grazie, Ethan. Non respirare il fumo, cioè, è difficile. O ti metti qualcosa davanti, magari per filtrare, ma... Lo spero anch'io. O D'Aria, ma dovrei respirare. Potrei incontrarvi. Ah, dobbiamo salire. Sarebbe bello. Andiamo. Reggerà. Reggerà, hanno appena sfondato un pezzo con un... Con un... Con uno stivale. C'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi. Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te, mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No. Laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! È detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! Ciao! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Non è convinta. Vita, vai! Salva tua figlia! Venena! Non muore! Non bravo, ti apri! Non bravo, ti apri! Non bravo! Non bravo! Non bravo! Non bravo! Rip! Perché muoiono sempre tutti! Perché si è leggermente suicidata! Io non... Io non ce la posso fare! Ma non è colpa tua, Ethan! Si è letteralmente lanciata nelle fiamme! Cioè... Raga, cioè... Noi l'avevamo anche salvata! È stato anche faticoso! Potevamo... Boh! Vabbè! Non riesco... Da capire! No, nemmeno io, Ethan, siamo in due! Via! Verso l'infinito e oltre! Questo posto è fattuto! Perché cazzo sta succedendo ancora? A merda! Cioè... La mano mezzo smaciullata! Pam! Nella porta! Insensibile al dolore, Ethan! Cioè, io poi ho un taglietto... Ho un taglietto... Avete presente i taglietti quelli che si formano tipo sulle giunture delle dita? Tipo nell'angolo proprio dove pieghi? E io sono lì che... Ah, che male! Mi fa male! Non si rimargina! Niente! Lui con la mano smaciullata... Pah! Io non sento qualcosa! Proprio un uomo... Tutto ad un pezzo, Ethan! Eh sì, ragazzi! Questo è il vero eroismo! Bene! La casa ha preso fuoco! Posso aprire sto bagaglio qua? Col cacciavite! Oh sì! Non mi direi che un cacciavite usa e getta pure questo? Vediamo! Dai, ma non ci credo! Cioè... Una volta le puoi utilizzare le cose... Poi basta! Cioè... È tutto usa e getta in questo villaggio! What? Non so se voglio aprire! Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi! Ma... Ma chi? Ah! Chi era? Però Madre Miranda aveva quel simbolo dietro! Allora veramente stavano venerando Madre Miranda! Non mi sembrava nemmeno un essere umano quella creatura che veniva venerata! Invece probabilmente era davvero lei! Non so se avete visto ma aveva una sorta di... Veste con dietro una specie di aureola di metallo! Non so che cosa potesse essere! Mi sono finita? Dobbiamo capire poi come utilizzare il pozzo! Allora io mi faccio il sentierino perché di andar lì in mezzo non c'ho molta voglia! C'è una stata qua vero? Dove devo passare? Mi sa di qua! Per forza fare il giro! Niente! Non ci volevo venire qui però... Mi sa che devo! Vediamo anche un'esploratina già che ci siamo ora che mi sembra tranquillo! Magari ci sono materiali, cose... Vie segrete! Loot! Soldi! E pagliai! Ho trovato la zona dei pagliai! Pannina? Oh materiali! Sì ce li prendiamo! Portiamo via! L'ambientazione è stupenda! L'adoro! Cioè è bellissima! Cioè... Ragazzi siamo in Romania! È stupenda come ambientazione! Cioè è proprio azzeccata! Non lo so con i soldi cosa posso fare! Scopriremo credo! Magari possiamo fare delle offerte! Sento di nuovi campanellini! C'è la signora strega! Questa l'avevamo già controllata! Sì questa l'abbiamo già controllata! La morte è giunta per tutti loro! Guarda che figata che quando agita il bastone la mascella fa... È tipo Murray di Monkey Island! Sì il doppiaggio mi piace! Diciamo che ci sono voci un po' troppo giovani su personaggi un po' troppo anziani! Avrei preferito dei personaggi un po' più anziani effettivamente per rappresentare gli anziani! Però in generale sì! Non è fatto male dai il doppiaggio! Cioè recitano molto molto bene! Interpretano bene! Purtroppo alcune voci non mi sembrano pienamente adatte! Però nell'insieme non mi sembra male dai! Il doppiaggio in inglese è pazzesco! Ma in italiana non mi dispiace! Preferirei essere il gioco in inglese? Per me è differente raga! Tanto italiano e inglese... Cioè... Si capisce... Cioè sembra un... Insomma frasi basic quindi volendo! Ah la sua faccina! Eh teniamo italiano dai! No ma a me non dispiace in italiano ragazzi! Cioè ripeto... Le voci non si incollano perfettamente sui personaggi! Ma proprio perché sono voci troppo giovani per personaggi anziani! Che cavolo è messo questo? Ah così! Ok! Dico! Nient'altro che sangue e morte! Questa corda? Io ogni... Cioè ogni cosa che vedo raga mi distrae! Sono una cosa incredibile! Cioè vedo una corda e la devo seguire! Non ti preoccupare Fabio vai tranquillo! Bellissima sta... Sta caverna così! Sta grotta! Uh! Questa era la parte della prima demo! Bellissima! L'ho amata quella demo! Per arrivare al castello di Mitrescu! Hmm! Bene bene! Pensavo non ci fossero superstiti! Devi avere la pellacciatura! Un problema di magnetismo? Chi cazzo sei tu? Oh! Un forestiero! Anche meglio! Ok! Credevo fosse simpatico ma non lo è! Madre Miranda piacerai molto! Ma mi ha appena riempito di metallo! Si è magneto! Basta lagne! Ci siamo quasi! Ma non ho aperto bocca! Non ho fiatato proprio! Cioè erano tipo sofferenze di spostamenti dovuti al fatto che ho un quarto di mano! Il figlio di quest'uomo e le mie figlie amano così tanto intrattenersi con i forestieri! Se lascerete il mortale nelle mani del casaco di Mitrescu! Io e le mie figlie lo tratteremo! E che prezzo brutto! Voglio vedere! Quindi? E sveglio! Ciutete quella bocca! The fuck? La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo! E creerò uno spettacolo che piacerà a tu! Oh! Che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo! Garantisco che l'omuncolo soffrirà in ogni caso! Sì come no! E poi nel castello gli tagliate l'uccello! Bla bla bla! Ho ascoltato le vostre ragioni! Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri ma... Ho preso la mia decisione! Heisenberg? Il destino di quest'uomo è nelle tue mani! Heisenberg? Madre Miranta, io non sono d'accordo! Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile! Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto! Chiudi quella cazzo di fogna! E per una volta impara a perdere! Cercati la cena da un'altra parte! Ti conviene stare zitto, ragazzino! Lascia parlare gli errori! Un ragazzino! Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te la taglia sempre in me! Ma cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego! Ehi, la mia opinione non conta! Silenzio! La mia decisione è definitiva! Non voglio discussioni! Imparate a stare al vostro posto! Grazie! Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Padre Miranda è fichissima! Sì, Ethan Winters! Preparati! No, aspetta! Mi ha liberato! Dieci! Nove! Otto! Ok, devo correre! Sette! Corri! Cinque! Quattro! Dai, Ethan! Due! Uno! Si va in cena! Certo che poteva togliermele completamente le manette! Ah, io corro! Non è! Yeah! Molto bene, Ethan! Grazie, grazie! È sempre bello ricevere complimenti mentre cerco di salvarmi la vita! Vabbè, ma dai, ma non vale però! No! No! Sono sopravvissuta a quel colpo? No, aspetta! Come posso essere ancora viva? Cioè, me l'avete visto col martello? Sei ancora vivo? Complimenti! Oh, merda! Dai, però così è un po' da stronzi! C'è pure la trappola? Ok! Oh, dio, ma sta venendo giù anche qui! Ma allora, sei davvero forte come dicono? No, ho solo un fortissimo attaccamento alla vita! Oh, non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Il loot! Devo far divertire donna e loro! È arrivato il momento! Per lo rendito! Il sanguinoso caffinale! Sorry, scusate, c'era il loot! Non mi sono distratta, non volevo! Mi hanno messo la cassa lì per distrarmi! Sono bastardi! Cristo santo! Lo sapevate che ci sarei caduta! Calma, se vuoi salvarmi! È stato proprio da orribili persone a mettermi il loot lì! Molto bene, Ethan! Bene! Che bello prendersi un'altra martellata in faccia! Sì, ho un grosso problema con loot! Ah no! Ciao, sorridi, loot! Grazie per i 28! Bentornato, bello! Grazie per l'isab! Sei ancora vivo? Complimenti! Grazie, grazie! Ecco, vai, trappolino! Io mi alzerei molto velocemente e correrei ancora più velocemente! Giù, giù, giù! Merda! Non è il momento per le imprecazioni, Ethan! Sei davvero forte come dico! Oh, non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Devo far divertire, donna! Non posso fuggire! Oh, sì, invece! È arrivato il momento per lo splendido e sanguinoso crown finale! Che c'è di meglio di un bel macchinato di carne americana! Oh, e così posso anche prendere loot! Crede che io sia morta! Lui pensa che io sia morta! Soldini! Che cos'era? Una mina anti-uomo! Allora, intanto facciamo un bel... Ecco qua! Un po' di sistemazioni! Sistemini qui! Sistemini là! Ah, ok! Giettili! Sì, molto bene! Molto bene! Perfetto! Tutto regolare! Si loota e poi si sistema! C'è molta altra gente qui! Cioè, quindi è prassi praticamente fare sti scherzoni! Eh, dai! Si divertono bene! Ognuno, raga, è i suoi! Perde due! Wow! Che bello qui! Ok, ora forse possiamo toccare quella leva! La prima volta che ho provato a farlo non è andata molto bene! Non vedo che cosa potrebbe andare storto questa volta! Apriamola! Guardate comunque l'RTX che bomba! Eh, si vede da Dio, eh! L'illuminazione è spettacolare! Ciao, Emma! Oh, ma che si vede! Grazie per i 59, Emma! Ma dopo... Era tutto storto su schermo! Buonasera! Potrei o meno essere qui per via di Lady Dimitrescu! Non confermerò, ne smentirò questa affermazione! Bentornato, Emma! Grazie per i 59! Thank you! Il protagonista è Renato Novara! Non so di che cosa parli, Luciano! Non conosco Renato Novara! Come stai, Emma? Cin-cin! Hai visto, Dani? Oggi me li faccio da sola e bevi, se no non bevo! Girettino di perlustrazione! Hai visto che ho fatto bene a fare il girettino di perlustrazione? Guarda, c'è una capretta tutelare! Vedi? Vedete? Sempre fare i girettini di perlustrazione! Altrimenti come faccio a fare incacchiare Lady Dimitrescu spaccandogli le caprette tutelari? No, mi sta piacendo di più di Resident Evil 7! A me Resident Evil 7 non è dispiaciuto, eh! Però questo, a livello di ambientazione, mi piace un sacco di più! Proprio figo! È proprio un tipo di ambientazione che adoro! Le caprette servono a far arrabbiare... ...madre Miranda! Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta! L'eroe in cerca della propria figlia! Devo ammettere che il castello d'Esta non pochi sospetti! Già, non è l'unico! Io sono solo un umile mercante! Qui? Devi perdonarmi! Puoi chiamarmi il duca! Parliamo d'affari! Armi, munizioni, unguenti curativi! Tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo! Ecco a cosa ci servono i soldi, guys! Ah, sì, sì! Il negozio di souvenir, risorse, spendi oggi... Per favore, dai un'occhiata al mio inventario! Bellissimo, raga, è lo slogan! Spendi oggi per vedere il domani! Potenziamenti! Solo il meglio per le tue armi! Il borsello del duca, tutto a un prezzo! Speramento di cristallo, cranio cristallizzato, soluzione medica, soluzione medica, munizione di pistola... Ma aspetta, queste sono le mie cose! Cioè, io non voglio vendere le mie cose! O perlomeno, non ancora? Che cos'è questo? Grilletto azione singola! Ma costa tutto tantissimo! Bagaglio extra! Wow! Ne ha di roba figa! Risorse... Eh, non posso permettermi nulla! Curativi, attenzioni... Potenziamenti, vediamo... Preferirei potenziare la pistola, perché sicuramente la useremo di più! Anche se effettivamente avremo altre armi andando avanti, sicuramente, almeno... Penso sia come gli altri Resident Evil, quindi... Avremo sicuramente altre armi! Vabbè! Wow! Mi ha costato tantissimo! Non ho abbastanza soldi! Non va a dare a me! No, eh... Non ho soldi! Cioè, mi stai chiedendo troppi soldi! Forse potrei vendere qualcosa! Vediamo! Minerale bianco trovato in questa regione, di valore! Questi cristallizzati di una creatura dei denti a guzzi, di valore! Ma allora, queste cose posso venderle, penso! Ecco, no, munizioni, soluzione medica, queste cose, no! Cos'è l'EMI? Ah, la mia pistola! Anche la mina me la paga bene! Ah, con 2.900 lei già posso comprarci qualcosa! Io... Io vendo! Sì, sì, i minerali probabilmente sono da vendere! Il doppiatore di Rufy, di One Piece... Beh, adesso ho abbastanza soldi per fare qualche piccolo upgrade! Tipo... No, a livello 2 non ci arriviamo! Oppure posso prendere direttamente gli oggetti da qui! Io preferirei quelle per il fucile, sinceramente! O la mina! No, dammi il progetto delle munizioni del fucile! Prendo il progetto! Sono in grado di eseguire qualsiasi... Alla prossima volta! Quindi, ora abbiamo la possibilità di craftare anche queste munizioni qua! E conviene farlo, decisamente! Perché con queste munizioni qua... Apro la testa ai nemici! E faccio decisamente molto prima che con la pistoletta! Cioè, con la pistoletta ci metto 30 anni! Puoi vendere tutto quello che c'è lì tra i tesori? Ah, di tesori posso vendere qualcosa! Facciamo una controllatina? Ah no! Non ho niente però! Non ho ancora tesori! Sono tesori, guys! Addentriamoci in casa! No, il gioco è normal! No, la prima run si fa sempre normal per quanto mi riguarda! Se no, smadoni a caso! Magari la seconda la fa in hard! La prima... Almeno devi conoscere un attimino il gioco, secondo me! Se no, è... Cioè, è frustrante! Che belle queste tendine! Che rosa sia qui! Posso romper i vasi! Evviva! Sicuramente la di Dimitrescu non la prenderà bene! Sono appena entrata in casa e già le sto distruggendo i vasi! Perché non posso raccoglierlo? Sorry, Lady Dimitrescu! Non volevo rovinarti casa! Le tre figlie! Bella, Cassandra e Daniela! 5 gennaio! Red Nick! Consegna di un uomo e tre donne! 28 gennaio! Madre Miranda! Incontro con la signora Dimitrescu! Primo febbraio! Il duca! Incontro d'affari! Ok, è una sorta di registro! Wow, se è grande sta casa! Chiusa! Ma raga, è menso! Questa è che abbiamo svegliato una delle figlie! Quella è una pianta verde? Oh no! Ci ho sperato! Scuso! Prestituisci le maschere agli angeli! Stavo leggendo! Stai forse cercando Rose! Ok, sono tutte e tre! Cioè, mi avevano già infilato una freccia! Raga, mi stanno tirando con i ganci! Madre, ho catturato una preda per te! Siete così premurose, figlie mie! E ora? Vediamo un po'. Bene! Bene, Ethan Winters! E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello! Hai suo fratello? Vediamo che cos'hai di tanto speciale! Sì, madre! Sì, madre! Sì, madre! Ah! Ah! Forse è un po' stagentato! Ehi! 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 Ma sono stata io a catturarlo! Calma, calma ragazzi! Prima devo informare madre Miranda! Ma più tardi, beh! Vedrete che ce ne sarà abbastanza per tutte! Tiratelo su! Aspettate! Sempre quella mano, sì, sì, è la loro mano preferita! Ci ha dato degli stagionati! Mettetemi giù! Potresti pentirti di quello che... Mi danno in basso! Ho dei problemi a guardarla in viso! Lasciami andare! Cioè, raga, quello era marmo! Distanziamento... Vale per i vampiri, dai! Sai... Sì, ha dei bellissimi occhi! L'ultima cosciuta ha micato! Bene! Sono lievemente appesa! Dunque, posso interagire con il mio inventario anche d'appesa! Che è incredibile! Potrei guardare la foto di famiglia per morire più felicemente! Vediamo... Allora, quella è la mia mano che è stata devastata in più punti e in più occasioni! Sono agganciata! Questa è l'altra mia mano! Salutatela! Stai scherzando, vero? Maledette psicopatiche! Raga! Si è aperto le mani! Ma non preoccupatevi! La soluzione! Guarda, tipo la metti, ti mette già il vendaggio in automatico, ti ripristina le ferite, fantastico, guarda, si è già cicatrizzato! Ah, ho sempre amato il realismo di Resident Evil! Non è un film horror, ragazzi, cioè, è ovvio! Non si cerca il realismo in un film horror! Un film, scusate, in un videogioco horror! Calice rosso! Beh, comunque tengono pulito! Ora, come se niente fosse, uscirò! Una seratura facile da scassinare! Sì, come quelle fuori, che però non hanno potuto scassinare! Eh! Cosa cavolo stavano mangiando? Ma no, è marcita questa roba! Ah, no, aspetta! È tipo frutta ricoperta di sangue! Ah, era l'ora del tè! Sono arrabbiate perché le ho disturbate, giustamente! Scusa dall'altro lato! Ma, se io arrivo da lì, quella porta era chiusa! Aspetta! Abbiamo una bellissima mappa! Sala degli angeli! Sala d'ingresso, porta-cocchiera! Camera da letto! Mi trigheranno da morire quelle serature che non posso aprire, guys! Ma seriamente molto! Non credo di poter utilizzare le forchette, no! Allora, questa... Ah, dicevo di poterla spostare, ok! C'erano solo degli scarti! Ma quella è Rose? O è semplicemente una specie di suora con in mano una bambina X? Perché è molto simile a Rose quella bambina! Vabbè che bambini piccoli, appena nati, ci assomigliano tutti abbastanza! Oddio, da dove esco? Ci sarà un posto da qui per forza! Quindi qua... Anello con occhio rosso! Sì, esatto! Sarà un... Bebe X! Se siete arrivati adesso, guys, abbiamo iniziato da un paio d'ore, più o meno! E... Ethan si trova in questa città, in Romania! Sta cercando sua figlia, Rose, che è stata rapita! Sua moglie mia è stata uccisa! E in questo momento è stato portato... Al cospetto di quattro strane creature, un gigante, un tizio che sembra Magneto con un mega martello... Uh, bella! Lady Dimitrescu che ha sei ali, sembra Angemon, però oscuro... E... E c'era anche tipo una bambina cadavere, una piccola sposa cadavere... Che per me è la più inquietante di tutti, ve lo dico! C'è un loot! Una vetrinetta! Dove? Ma questi vasi li posso rompere? Sì, solo per far dispetto! Non vi sono la vetrinetta! Corvinus! Grazie per i 15 mesi! Grazie, Corvi! Grazie mille, Corvinus! Grazie! È intornato fra di noi! C'era della polvere da sparo! Sblocchiamo questa porta! Ok, vai! Ora l'abbiamo aperta! Ehi! Il raccolto delle fanciulle! Devo far rumore, eh? Ah, questa vetrinetta! Non puoi usare questo oggetto qui! Manca la testa! Sono due, quattro, uno... E qua c'è tre! Dobbiamo sicuramente inserire qualcosa! Wow! Ma si fa sul serio, guys? Mamma mia! Graficamente sto gioco è uno spettacolo! Che bomba! Ah! Ok, quella porta che non potevo aprire! Una delle tante! Questo è di nuovo il salone! Cos'è stato? C'è uno stivale a terra! Non è molto rassicurante! Chiusa dall'altro lato! Vuoto? Ok, questa l'ho aperta prima! Possiamo salire! La stanza del vino! Le tecniche di produzione del vino del castello Dimitrescu risalgono al XV secolo, molto prima dell'arrivo delle attuali residenti. Alcina Dimitrescu ha aggiunto a questa tecnica il suo peculiare tocco, che dona al vino un gusto corposo e un aroma intenso. Il suo vino migliore è il Sanguis Virginis, Sangue della Vergine. Lo conserva in una speciale bottiglia decorata con intricati motivi floreali d'argento. Quindi se vediamo una bottiglia con intricati motivi floreali d'argento è il Sangue di Vergine. Si rompe. Che cosa sei? Forse dobbiamo infilarci una bottiglia qua. Potrebbe essere. È una tenda questa? Sento degli spifferi. Sanguis Virginis. Eh, roba è quacca. Ciao. Giustamente, giustamente. Al giorno d'oggi è stinto. Viene conservato in bottiglie speciali. Mamma mia. Bene, allora, non credo qua ci serva l'anello, però possiamo provare perché... Ah, ok, ci serve solo l'iride, ci serve solamente l'occhio proprio. Quindi analizziamo l'anello se si può. No, non lo voglio usare. Cioè, lo voglio analizzare. Vediamo se me lo fa analizzare. Esamina. Ah, ecco, interagisci. Perfetto. Ora abbiamo l'occhio. Chi è tino? Vai, ci siamo. Bene arrivati a chi sei connesso, guys. Se non doveva aprire questa, ora. Così è da bastardi, però. È da tanto che non sventra un po'. Sì, ma queste mi sventrano intilandomi gli insetti dappertutto. Ok, qua ci serve qualcosa per aprire. Vivo, signorina. Non riesco più a trattenermi. No. Ok. Sono lanciata da 12 metri. È incredibile come Ethan riesca a sopravvivere a qualsiasi cosa. Ok, siamo di nuovo nella cantina. 9 giugno 1958. Oggi è stato il primo giorno di lavoro al castello. Sono rimasta di stucco quando ho scoperto che le dipendenti sono tutte donne. La signora del castello e le sue figlie hanno promesso solennemente di non mordere. È stato molto strano. Ma certo, non potevano ammazzare le dipendenti, sennò faceva le pulizie. G7 Grand Dog, grazie per il secondo mese. Bentornato, Grand Dog. Grazie mille per il supporto. 23 giugno 1958. Sono trascorse due settimane da quando ho iniziato a lavorare al castello e mi sento un po' spaventata. Adela, un'altra domestica, ha fatto un errore e la signorina Daniela l'ha assalita tagliandole il viso con un coltello. Di notte sento l'eco di lamenti, come se i corridoi fossero impestati da fantasmi. Voglio tornare a casa. A cena le signorine si lamentavano del caldo soffocante, quindi ho aperto la finestra, solo uno spiraglio. Chiudila, chiudila subito, hanno urlato in coro. Ho il terrore che mi rinchiudano per sempre in cantina. Non so cosa fare, non so cosa fare. Ah, la servetta. Questa era sempre la prima demo. Ricordavo questa musica. Almeno, non nella demo. C'è la di Dimitrescu. È bello che mi viene ad abbassarmi realmente, no? Come se effettivamente avesse qualche effetto. È il sangue di vergine! Hai in mano la bottiglia del sangue di vergine? Quella probabilmente ci serve per sbloccare la porta che avevamo visto prima. C'era uno strano ingranaggio dove probabilmente dobbiamo inserire la bottiglia. No, il doppiaggio è strano, Cazuto. Nel senso che, dicevamo prima, allora secondo me è buono, però alcune voci non si incollano bene sui personaggi. Nel senso che sembrano troppo giovani per l'età effettiva dei personaggi. Cioè, avrei apprezzato voci un po' più anziane. Cioè, qualitativamente in realtà è fatto bene. Cioè, si sente, recitano molto bene i doppiatori. Il problema è proprio che non si incollano bene le voci. Cassa? Soldi? Molti soldi. Più giovani costano meno? Ah, sì? Può essere, magari, sai, hanno meno esperienza. Sì, sì, no, è fatto bene. Sono solo le voci che... Sì, sono d'accordo. Anch'io le trovo... Proprio perfette. Che cavolo devo fare qui? Forse devo accendere quei braceri spingendo questo? Beh, secondo me devo accendere questi. Solo che non riesco a spingere, granché. Madonna, sono cagata d'osso. Oh, trust. Credi nella luce. Grazie, Veon. E sono quattro di abbonamento. Grazie per tenerci compagnia durante il lavoro e lo studio tutti i pomeriggi. Grazie mille a te, Veon, per il supporto. Buon lavoro e buono studio. Vai, spingiamo anche questa. E vai. Quindi, dit. Bellissima sta... Questo... Non so neanche come chiamare cosa è un rilievo. Si apre. Sì, questa era la parte della demo. Guardate, sembra la figura di un uomo. È ricoperto di sangue rappreso. Mettevano anche il catino a terra per raccogliere il sangue, per non sporcare. C'era igiene nella tortura. Voi ci pensate che queste cose sono state utilizzate davvero? Cioè, ci pensate che questo non è finto? Nel senso... Sono effettivamente oggetti da tortura che sono stati utilizzati in passato. Sì, Dragon Age Inquisition è molto bello. Origin è più bello, però anche l'Inquisition non è male. Cin cin, contra. Alto rilievo si chiama? Non ho competenze artistiche, quindi mi dovrete insegnare. Aiutami, fratello. Eh. Sì, beh, non con queste cose, White Conan. Schifo le latrine. Carne marcia. Vedo niente di che. Aspetta, mi ricordo che nella demo dovevamo tipo mettere la mano qua dentro. Ah. Mamma mia. Candidate. Candidate. Irina, Michaela, Loris, Lois e Ingrid. Scartate. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Liudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriella. Cosa succedeva con le scartate? Se le mangiavano? Potrebbero essere effettivamente quelle scartate. Se c'erano solo ed esclusivamente donne in questo castello. Irina, appetito robusto. Mihaela, appetito robusto. Lois, appetito robusto. Ingrid, instabile. A tratti eccessivamente vigile. Ok, mi sa che le avevano trasformate. Candidate nel senso per il vampirismo probabilmente. Vorrei che ce li troviamo qui. Ok, devo fare un po' più veloce. Scarti di metallo. Credo mi abbia visto. Mi ha visto. No, 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 no. Ok. Oh, sta musica che aumenta. Ok, sono tante. E non muoiono con un colpo. Ok, sì, no, la musica sta partendo fortissimo. Che ansia. Penso che non le ho fatte tutte. Ok. Non sono sicura che mi abbia visto. Shit, sì, mi ha visto. Oh, chiacchia, aperto. Dai, dai, dai. Bomba artigianale. Oh, mi ha mancato. Sto tipo giocando a nascondino. Cacchio, cacchio, cacchio. Oh, hanno preso una mina in faccia, Dio santo. Hanno degli oggetti, cioè, mi sa che conviene farle fuori. Con l'ana di Ingrid. Forse non è come gli altri Resident Evil dove dobbiamo cercare di scappare e ottimizzare. Cioè, sembrano effettivamente avere degli oggetti di valore. Comunque c'era forse qualcosa qui. No. Hanno degli oggetti. Sì, hanno loot. Mi ha visto, mi ha visto. Per escozare la pistola è meglio. Però, cavolo, si muove veramente tanto sta qua. Quattina. Ok, mi sa che li ho fatti fuori tutti. Allora. Non so se craftare un'altra soluzione. Per il momento no, teniamo i materiali di qua. No, invece, sapete cosa crafto? Crafto queste. Cambio le munizioni per il fucile. Fucile, fucile. Ok, sono morte tutte. Credo che qualcuna sia uscita da lì. Non so se quelle erano le candidate effettivamente. Sì, le munizioni ce ne sono tante. Quindi, credo sia più conveniente a sto punto farle fuori se droppano. Cioè, la tipa mi ha dato una collana che potrebbe essere utile magari per andare avanti poi nella storia. Se solo Cassandra ti avesse ucciso subito. Eh, ma lei non mi doveva trovare però. Ma che cacchio. Sei il piatto forte dell'Ugile. Raga, cioè, io mi muovo velocemente cercando di nascondermi. Oddio, che laggata qua in mezzo. No, c'hai ragione. Cioè, mi sono lasciata attirare dal loot. Voglio di nascondermi. Sanguicato. Rosso. Brillante. Dove ti andai? Ovunque, Rosso. I proiettili non mi fanno nulla. Tu, stupido amoncolo. Ma non ho fatto niente. Non sento alcun dolore. Dai. Secondo me devo scappare. Oh no, no, no. Mi ha chiuso, mi ha chiuso. Mi ha chiuso. Ah, non può essere. Ti taglierò la torre e la riempirò di verno. Che cacchio, devo andare. Shit. Sembra essere sensibili al sole, tipo. Che cacchio gli devo fare a questa? Togli quelle mani. Sono stanca di combattere. Non capisco, raga. Questa è matta. Scema nella testa, sta qua. Ci sarò da tenere, tipo, qua davanti? Sì, però vedo che se ne sbatte abbastanza di sta zona. Non posso crederci. Oh! Fico! Molto fico Grazie mille Iblade per la resub Grazie per il terzo mese Thanks Bentornato Grazie anche a Dexoria per l'host Hola No raga ma se Se è frizzata tipo Allora aspetta io però adesso non ho più pozze Quindi una facciamola Una ci serve dai Dai qua E qua Ok Fred è il loro punto debole Sì visto Yes Sì infatti è vero la nota diceva che quando la servetta aveva aperto la finestra Tutti avevano detto chiudi 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 Evidentemente Temono il freddo Rigiocabilità Eh lo puoi rigiocare in hard magari dopo la prima run Dice che è bello tosto Sangue Sangue di vergine Vediamo la bottiglia Dunque allora mi sa che qui rientriamo in casa Sì Penso proprio di sì Seratura facile da scassinare ma non possiamo scassinarla Cos'è questo Il freno di bocca per la pistola Oh yes Nice Questa cos'è la cucina? Parti di creature non ben identificate Mi hanno mandata un'altra in cantina Aveva solo rovesciato un po' di zuppa Tutti sanno cosa succede a chi viene mandata in cantina Non si fa più ritorno Succhiano via tutto il tuo sangue La tua anima è condannata a vagare per sempre lungo i corridoi del castello Sono andata a cercarla e l'ho trovata Era pelle e ossa e masticava le carcasse dei ratti Temo che presto arriverà il mio turno Essere mandate in cantina non era una bella cosa Ok Quella però era una delle figlie di Lady Dimitrescu Quella che abbiamo fatto fuori intendo Grimallello finalmente Oh ti prego dimmi che è utilizzabile con più cose e non a one shot No mi sa che è a one shot Angelo di legno E quindi l'ho perso? Si Io si è una volta sola Ok siamo nella sala da pranzo No Non credo mi serva Cioè sembra servire una chiave C'è una serratura bella grossa Nice polvere da sparo Forse dovrei rifare Ricraftare con un po' di munizioni Non si sa mai Ok siamo di nuovo qui Io non aveva Un lampadario di cristallo Non così ovviamente Tipo quei lampadari di cristallo da casa Però aveva un interessante lampadario di cristallo Ah credevo di dover mettere qui il busto Invece no Il busto della tipa Dunque Oh mi sono spaventata moltissimo Ho visto la faccia Che ci fai qui? Sai dove c'è da guadagnare E dimmi hai trovato tua figlia? No Se Rose si trovasse davvero qui è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private Wow Dimitrescu Sì proprio lei Perché non dai un'occhiata? Magari hai fortuna E a tal proposito Guarda il mio inventario No raga guardate Sì no il duca è figo Il duca ha una voce bellissima Sono d'accordo ci sta bene E guardate Che cavolo è? Devo utilizzare qualcosa Un taschio rosso con dei cristalli Labirinti di Norstein Norstein un artigiano del XIX secolo fu bandito dalla sua terra in quanto eretico Vagò a lungo prima di stabilirsi in un remoto villaggio Norstein creò quindi quattro labirinti Il castello, la casa sulla collina, la ruota idraulica e la torre di ferro Concluse le sue opere si tolse la vita sparandosi alla tempia Aspetta c'era un altro foglio Ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di quattro esseri umani Che pare fossero le adorate mogli di Norstein I labirinti sono le loro tombe Ah quindi forse quei bussi che abbiamo trovato sono i labirinti Ma è fichissima questa cosa Ok vediamo Frammenti di cristallo, cranio cristallizzato O anche un busto cristallizzato Insomma lo paghi parecchio Calice rosso Calice divino rosso sangue di alcina dimitrescu Sì vai Angelo di legno, statua di un angelo intagliata nel legno Collana di Ingrid Collana fatta con ossa di animali Protegge dal male Tutti oggetti di valore Vendi Abbiamo fatto un sacco di soldi Raga 23.000 ho fatto Cioè posso prendere un sacco di roba Tipo Allora intanto aumenta il numero di slot disponibili nell'inventario Questo straconviene Vai Congratulazioni Adesso non rischierai più di perderti qualcosa Spese grosse Poi caricatore maggiorato Parte di modifica della pistola Aumento di molto la capacità del caricatore Secondo me conviene questo O grilletto azione singola Parte di modifica per il fucile Aumenta di molto la cadenza di tiro No io vado sul caricatore maggiorato Perché è da prima È dall'inizio che lo cerco il caricatore maggiorato Spero che si rivedi utile Equipaggio Nice E abbiamo altri 4.000 Posso imparare a fare le mine O fucile di precisione Oppure vediamo Sono in grado di eseguire qualsiasi modifica In cambio di un modesto importo Cadenza di tiro O capacità Wow Ne tiene tantissime così La potenza sarebbe la cosa migliore Ma costa un sacco Vediamo se riesco ad arrivare a 6.000 E aumentare la potenza della pistola No Oddio Anche venendo la bomba artigianale Non ci arrivo No Devo Non lo so Devo Devo scegliere Altro Facciamo Velocità di ricarica Ah però non me lo fa fare Ah invece sì 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 Facciamo Dai cadenza Che vuoi comprare Nice Salvo Che non si sa mai Sì potevo anche tenermi i soldi E tornare dopo Però Preferisco Potenziare il personaggio Già adesso Così poi magari C'è più facile Sconfiggere i vari nemici E quindi farmare L'ho venduto il busto Allora andiamo a cercare La stanza dove dovevo usare Il calice Non ricordo dove fosse Andiamo a vedere Mi pare di sopra Ah era la stanza dell'occhio Forse No era questa Era questa Era questa Ecco La stanza dell'occhio Era quella di fianco Vai vediamo se è come penso Sì Dai era abbastanza telefonata Siamo nella cantinetta praticamente Dove tengono tutto il vino Chiave del cortile Yes Sì gli interni sono molto belli Allora L'esterno non è brutto Però sono d'accordo Sì gli interni sono incredibili Altri soldi Questa è sempre chiusa Questo lo posso spaccare No Altri soldi Dobbiamo tornare Alla stanza dell'occhio Eccola Non credo sia questa Credo che la chiave del cortile Sia quella A cui si accede Dalla cucina Un momento Qui mi stavano inseguendo Giusto Quindi non avevo avuto tempo Di buttare l'occhio Se ci fosse qualcosa Ma no Non c'è niente Ah Sono i vestiti Di Lady Dimitrescu È il suo Come si chiama Non il camerino Tipo Sapete La gente La gente che ha la casa grande Può metterci i vestiti C'è una stanza apposita Che adesso non mi ricordo Come si chiama No Non il guardaroba No Non intendevo il guardaroba La cabina armadio Esatto Ecco Grazie Non mi veniva È la cabina armadio Di Armadio di Lady Dimitrescu No Comunque niente Sono tornata giù Oh Ciao Chiara Grazie per il ride Ehi là Ciao a tutti ragazzi Bentrovati Allora Ti è piaciuto Resident Evil Ti stava piacendo Io lo sto amando Mi piace moltissimo L'ambientazione È un sacco figa Grazie mille per il ride Ragazzi se non l'avete ancora fatto Lasciate un Droppate un follow A Chiara Porta un sacco di giochi Carinissimi Ha un sacco di format Interessanti E' un troppo piccoli vestiti Dici? Cioè questa non la posso aprire Ci posso schiantare sopra Ma Cazzo che la apriamo Questi tanto li avevamo fatti fuori tutti Quindi possiamo tranquillamente Fare il giro Anche vedere se Per dire abbiamo lasciato qualcosa Ma in realtà Io tornerei Di sopra Tanto anche qua Penso che le avevamo fatte Già fuori tutte Ah però vedi Ah no Questo l'avevamo già Utilizzato E niente Torniamo di sopra Allora aspetta Da dov'è che risalivo? Da qua Cioè in pratica Se vai giù di là Ti riporta alle cantine Ah Qua ci manca la chiave Che non credo sia questa Quindi poi dovremmo ricordarci Anche di tornare laggiù Che dove la tipa mi seguiva Che dove la tipa mi seguiva Un momento C'era Ecco dovremmo ritornare Oh perfetto Questa cercavo Vai Chiave del cortile Forse conveniva dropparlo Salvataggio Sì chiara un sacco Sì non so se mi hai sentito Dicevo ma Ti sta piacendo? A me è moltissimo Amo l'ambientazione Cioè mi piace proprio tanto L'ambientazione di questo Resident Evil Siamo nel cortile Tra l'altro Qui c'è ancora una zona Da aprire con il grimaldello Qua c'è la stanza del mercante Ci siamo già stati E il labirinto La sala da pranzo Me la da rossa Vuol dire che c'è qualcosa Che non abbiamo preso Se non ricordo male Il Resident Evil Ti dà le stanze rosse Quando non hai preso tutto Quello che potevi prendere Potrebbe esserci ancora qualcosa Io arrivo da qui Boh Me la segna ancora rossa Sì è bellissimo Sì è bellissimo Vero Mi sta piacendo veramente tanto Hanno fatto un ottimo lavoro Magari qua dentro No Pure me la da ancora rossa Che strano Magari c'è qualcosa qui Che non vedo No Non lo so è strano Me la segna in rosso Però Non vedo niente Vabbè Torneremo Eh raga Ho guardato Cioè credo di aver guardato Ogni angolino Non so davvero Cioè Qui sono tutte porte Oh Grande Grande Detone Aspetta Però non l'ho raccolto Mi sa Ecco Infatti C'era il cristallo Questa non la possiamo aprire ancora Cos'è questa cosa? Vediamo l'altra porta Qui c'è una porta Oh è aperta Cioè Lady Dimitrescu Non mi ha visto Incredibile Ho pozioni in casa? Oh sì Guarda quanto è grosso L'inventario adesso Mamma mia guys Abbiamo fatto bene A farmare i tizi Cioè Guardate Quanta roba Cioè Ci sta il mondo Ora eh Non ho mai avuto Un inventario così grosso In Resident Evil Sì è normale Killian Sì sì Bene Vale Ciao È bellissimo Bella l'ambientazione Bella anche la realizzazione No Lady Dimitrescu Non passa inosservata Hai visto che luter Sì io ho un obiettivo Nei giochi guys Lutare tutto E potenziare il PG Tantissimo Sì Anch'io Anch'io Chiara La grafica Mi piace un sacco Guarda Ho sparato L'RTX Con la grafica Al massimo E Una bomba Che cosa Che cosa hai fatto A mia figlia Cosa ce l'abbia con me Io non ci andrei di là Tengo un basso profilo E mi rubo pure la mappa Già che ci sono Sala dell'abluzione E queste le dobbiamo ancora esplorare tutte Questa è la sala dell'abluzione Ma è sangue? Credo potrebbe effettivamente essere sangue C'è le Ah sono i quattro No non so se sono i quattro demoni in realtà No perché non c'è Non c'è la ragazzina demoniaca Ok Cerchiamo di capire come risolvere questo Questo rompicapo Dunque C'è scritto qualcosa Le donne conversano deliziate E dal signore a cavallo Sono corteggiate Da lui disperati Vogliono farsi notare Così che il vino Possa sgorgare Quindi Le donne conversano deliziate Quindi le donne si guardano Ah Cioè gli altri due Li avevo girati Evidentemente Li avevo già girati giusti Ah sì Perché dal Dal cavaliere Sono corteggiate Mentre loro lo guardavano Wow Fatto Easy L'abbiamo Cioè praticamente L'avevo risolto Senza risolvere Nice Sì questi sono gli enigmi Enigmi easy Per chi mangia pane Avventure grafiche Uh Un'altra capretta Tutelare Non ci arrivo Yes Altro sangue Che bello Ma che cazzo Eh Hai visto Questa è la cantina Del vino buono Ragazzi Lo tengono qua Il vino buono Il vinello Ah Tra l'altro Vedo che c'è la possibilità Di rinchiudersi Quindi Dobbiamo far fuori Qualcuno E dato che abbiamo visto Che comunque Ci sono Diversi drop Più che scappare Io tiro fuori la pistola E la ricarico Anche per bene Visto che l'abbiamo Potenziata Ciao Ha fatto finta Dai Avevo sparato Bastarda Non è sola Conviene farle fuori Perché droppano Io voglio Voglio equipaggiarmi La roba figa Cioè a differenza Degli altri Resident Evil Dove dovevi Risparmiare Praticamente Tutte le risorse Qua è quasi Più conveniente Ammazzarle Perché Se droppano bene Guarda il cranio Ci sono munizioni Ovunque Praticamente Sì infatti No ma le munizioni Le posso anche craftare Così abbiamo anche L'esplorazione Più tranquilla Una volta che Li abbiamo già fatti fuori Vabbè Questo lo posso spostare Ma Ha senso farlo Ah ok Sono dall'altra parte Ma non c'è niente Però Prevolutare Non c'è niente Ma allora Diciamo che Andando avanti Sono diventati Cioè Sono cambiati Si sono evoluti Per alcune persone In peggio Quasi tutte le persone In realtà In peggio Però Sono cambiate Le dinamiche Sono diversi Non è che Cioè A me sinceramente Piacciano abbastanza Anche quelli nuovi Cavoli Così la pistola è potente Mi bastano pochi colpi Per seccarle Un colpo di shotgun Assessato bene E un paio di colpi Di Di pistoletta Mi perde Mi perde l'adrenalina Mi perde un po' L'adrenalina Mi devo tenere le munizioni O spaccare la faccia Del mostro Eh sì Quello sì Forza Cazzo orza Ok Vai Sono riuscita a risparmiarle qua Eh sì Hai ragione Sono d'accordo Perde un po' Di quella adrenalina Tipica del resident evil Dove ti devi risparmiare Tutte le munizioni C'è da dire Che noi stiamo giocando In normal Probabilmente Giocando in hard Te le devi tenere Cazzo m'ha preso Ah shit Qui sconveniva la shotgun Sono in troppe Sono in tre Oppure la bomba Ho una bomba Aspetta Ho una bomba Bomba artigianale Come posso utilizzarla Sono morta anch'io Ma non mi è convenuto Per niente Praticamente Cioè non gli ho fatto niente Non mi è convenuto Proprio per niente Usare quella bomba lì Mi sono fatta più male Io di loro Ah mi è rimbalzata addosso Ma in come Come hai fatto a rimbalzarmi addosso Ah perché forse L'ho tirata contro I cosi appesi Ah ecco perché Infatti dicevo Ma non gli ho fatto niente Ok non me ne sono accorta Ecco perché non Non le avevo danneggiate Ok No allora Qui sto tornando indietro Dove si esce qui Al minimo ce ne compare una In faccia all'improvviso Oh ecco Ah ero già morta Ok ci siamo Let's go upstairs Eh quello era un po' un problema That one Sì se finivi le munizioni Ad una certa Iniziava a diventare problematico Ad andare avanti Cioè andare avanti Sì Vero Facciamo una soluzione medica Però non ho trovato degli oggetti là sotto Ok Credo che quella fosse la distilleria Siamo Vini Come vedo quanti soldini ho 4.790 lei Sono ancora pochi Ah c'è qua salvo e basta Cioè questa stanza non è collegata a nulla No Solo salvataggio Ok Shit Non credo di dover rispondere io Sai se suona in Ah infatti Perché non rispondo Ah ecco Madre Miranda Sono desolata Ma purtroppo Quel mentecatto di Heisenberg Si è fatto sfuggire Ethan Winters Perché adesso è nel castello E sta dando del filo da torcere Alle mie figlie Quando l'avrò trovato La mente ne abbiamo già uccisa una No Madre Miranda Sì certo che comprendo L'importanza della cerimonia Tra l'altro c'è uno specchio lì Cioè ci sgama subito Non vi deuterò Al diavolo la cerimonia Quell'uomo la pagherà davvero molto Molto cara Tra l'altro questa casa È a misura di essere umano Quindi ci avete fatto caso Che lei ogni volta che vada Un posto all'altro Deve abbassarsi Sai quanto è scomodo Doversi abbassare Ogni porta di casa tua Ciao ciao Tao Elohim Eccoci qua Ciao stareta Ciao a te Grazie per gli otto mesi Tao Bentornato Grazie per il supporto Thanks Lei è gigantesca Si abbassa ad ogni porta Sì comunque questi sono i suoi vestiti Effettivamente Quegli altri erano troppo piccoli Ha un sacco di vestiti tutti uguali Madre Miranda ci ha convocati Non sono la sua preferita Non sono la sua preferita Non sono speciale Ho bisogno di bere Miranda non è la figlia preferita Miranda scusate La gigantessa Dimitrescu Dove sei? Ah qui teneva la bambina Oh no Abbiamo trovato la stanza di Rose Ma senza Rose E questa non la posso ancora aprire Arrivo guys Arrivo subito È 2 metri e 90 Dimitrescu No hai fatto bene a dircelo È interessante effettivamente Volevo saperlo È una super waifu Arrivo Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha fatto comunque un lavoro bellissimo a livello di grafica, cioè bello, bello, bello. Il mulino! Abbiamo visto le foto del mulino. Dunque, posso scavalcare qui forse, sì? E saltare dall'altra parte, magari? O scendere, oppure no? Dai, non è un salto così immenso. Ce la possiamo anche fare. Non si sente a suo agio. Va bene, allora no. Non è che posso entrare da qui? No, raga, era lì per forza, dai. Scusami, qui è tutto chiuso. Da che io vado? Non è che lo posso aprire con la foto di famiglia. Allora ci sarà un oggetto, forse, qua. Ci sarà qualcosa che mi fa aprire... Ah, la chiave di Alcina! Oh, ora possiamo aprire tutte le porte. Oh, merda. Eccoti qui. Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Che cazzo ne fai? Tu, miserabile egoista ingrato, ti introduci nella mia casa. Con quelle luride more ti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà. Come osi. Tutti i torti, eh? Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò e ti farò a pezzi! Fa pure quello che ti pare! Ah, adesso fai il figo! Ethan, da la cantina! Dopo che sei preso le tozze! Fa quello che ti pare! Vai, Ethan, sei un grand'uomo! Ti ha aperto il culo! Sto facendo il figo, no? Sì, mamma! Scusa, sono sporcato! Sì, sì, Ethan arriva dopo un po'. Sì, lei è stata una figa mentre diceva ti farò a pezzi. La doppiatrice di Dimitrescu è tanta roba. Con la mia unica mano sana. Ormai usiamo la destra per tutto. Dove sono finita? Siamo sempre nelle cantine. Però sembra una zona... Oh, antica! Consacrato! Cioè, ci sono pure le candele in mezzo. Sacco di soldi! Sai che possiamo andare a spendere i soldi dal mercante? Avevo appena detto che la mia unica mano sana! Non ti lascerò scappare! Ti ridurrò a Brantelli! E non li verrai mai più, tu a te! Ah, quindi lei è Wolverine! Presto ti pentirai di aver profanato il casato di Dimitrescu. Chiedo scusa! Non volevo profanare! Oddio, raga, quella corre forte. Ma che dici? Come lo apro adesso? Pentiti! Raga, mi sono presa la mano mozzata. Ma che... Dove vado? Aiuto! Sento un topo in trappola. No, Lady Dimitrescu. Possiamo parlare? Facciamo pace, ti prego. Lady! Parliamone pacificamente. Non mi perdere. No, ragazzi, ho un millimetro. Questa mi apre. Ma la porta è aperta? Sì, è aperta! È aperta! Sono una bamba! La porta è aperta! No, non è vero, non è aperta. È aperta o non è aperta? Non sto capendo. Sì, è aperta! Via! Signora, la mano! Via! Dai, apriti! Cosa cacchio? Ok, non c'è tempo per pensare. Maschera della mestizia. Mi sento molto mesta in questo momento. Mi sentirei decisamente meno mesta se riuscissi a scappare da qui. Scappare non ti servirà a nulla! Sì, perché morirò dissanguata. Cioè, non stare lì con le mani in mano. Tu, serio? Da quando Resident Evil è diventato un fantasy? Ma che tipo di essere umano sei, Ethan? Questo castello! Ok! Esatto, sei anche ricucita la manica! È tipo... Reparus totalus! What the fuck, dude? Allora, aspetta. Un momento. Non lasciamoci prendere dal fantasy di questo gioco. Volevo controllare un attimo la mappa per andare a salvare. Vabbè, il salvino qua. Vabbè, il salvataggio. È qua giù dal mercante. Tra l'altro, abbiamo anche un tot di soldi. Ah, devo arrivare a 6.000. Però posso vendere. Se vendo, posso comprarmi il potenziamento per la pistola. Let's go! Ignoro tutte le creature che mi stanno inseguendo in questo momento. Proprio brutalmente. No, aspetta, non era qua. Sì, 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 è giusto, è giusto. Era sotto. Era di qua. Sono un attimo perso. Dove erano le fanno? Oddio! DG Andrea! Sì, soldi! DG Andrea, grazie mille per la risalve per i 24 mesi! Buon secondo anniversario! Ciao, Staretta, sono passato per rinnovare e fare un saluto. Che ora devo correre al lavoro. E niente, buon Resident Evil. Grazie mille, buon lavoro! Grazie Andrea! Buon trabacco! Grazie mille per essere passato. Dunque, non posso chiamare l'ascensore. Probabilmente dobbiamo attivare la corrente in questa zona. Tra l'altro non ci ero mai stata. Perché probabilmente prima quando sono entrata, questa parte qua non l'avevo attivata. Qui mi hanno chiuso il cancello davanti alla faccia. Lì non ci entriamo più. Ok, andiamo a vedere giù. Oh, una vetrina. L'ho rotta gratis perché non c'era niente dentro questa volta. Ah no, invece ci sono stata qua. Solo che non sapevo ancora di poter spaccare vetrine e cose. Ciao, Matteo! Matteo QBoo! E prima di lavorare stampa la miglior streamer. Grazie, Matteo! Grazie mille anche a te per i 13 mesi! Buon lavoro anche a te, Matteo! Grazie millissime per essere passato a rinnovare. Prima di andare al lavoro, thank you! Buon lavoro anche a te, buon weekend! Grazie, grazie. Sì, la vetrina rotta è per vendicarmi della tipa che mi ha staccato una mano. Sembra il minimo. Eccolo qua. È un piacere vederti sano e salvo. Come procede, eh? Sanissimo! Non ho trovato Rose. Ecco, mi dispiace immensamente, dico davvero. Beh, una volta fuori dal castello, allora capirai come trovarla. Hai bisogno di qualcosa prima di proseguire? Più cose compriamo adesso. Ho ampliato i miei servizi. Vieni, vieni! Dai un'occhiata! Cioè, comprare tante cose adesso equivale a guadagnare più risorse. Perché comprando i potenziamenti ora spendiamo di meno per sconfiggere i vari nemici e spendendo di meno guadagniamo di più. Quindi, secondo me, comprare fin da subito alla lunga ti fa guadagnare. Griletto azione singola. Questa è per il fucile. Non so se prendere questo o fare potenziamenti. Questo è un investimento, Ethan. Io aumenterei la potenza della pistola. Sì. Sì. E la capacità? Velocità di ricarica. Beh che oddio, abbiamo... Se abbiamo tanta capacità non abbiamo bisogno di ricaricare in realtà. Quindi facciamo così. Una modifica così elementare si può fare in un lampo. Qua è la pistola sta diventando bella tosta adesso. Grazie per il tuo supporto. Ora abbiamo 18 munizioni. Sono tantissime. Con questo non credo di poter ancora interagire granché. Vediamo. E via. Insegnante di economia casalinga. Beh, se ci pensi, più potenzi le tue risorse, meno risorse consumerai per uccidere i nemici. Quindi farai più soldi. Dunque, allora, che oggetti abbiamo adesso? La chiave di alcina con cui possiamo aprire praticamente... Cerchi di stuzzicare il mio appetito. Ok, non mi lascia esplorare direi. Corri, 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 corri. C'era una porta qua da qualche parte. Ah, non è questa. Merda, mi son chiusa. Non è stata una buona idea venire qua. Ah, sorelle, veniti a prenderla. Ho visto? Eccoti qua. Devo avere un po' di pazienza. C'era una porta. Eccola. Mi mancava una porta di sopra. Ok, non credo di aver molto tempo per esplorare. Maschera del piacere. Shit, 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 arriva. Anello d'argento. Vediamo. Ah, queste sono le maschere da mettere di sotto, mi sa. Dove l'ha messo l'anello? Ah, è un tesoro. Questo lo vendiamo. Combinabile. Ha un incavo. Ci manca qualcosa. Forse gli manca la pietra, tipo. Ah, questo è da quattro. Ma io poi le posso analizzare, queste teste, per capire come vanno posizionate. Vediamo. Sì, perfetto. Easy. Ok. La mestizia? La mestizia è tipo la tristezza. Sei mesto quando sei giù di morale. È un misto tra essere appunto giù di morale ed essere molto tristi. È tristezza, la mestizia. L'occhio rosso non ce l'abbiamo più. Non so se posso prenderlo ancora. Scarti arrugginiti. Sì, è una presa male. Esatto. Sei mesto. Cioè, tutto ti va male. Super pessimista. Eh? Ah, mi sembrava una statua. Essimesto. È ancora una nuova parola. Ho coniato una parola nuova. C'era un vaso? Ho visto un vaso? Dove era il vaso? Eccolo, hai ragione. Avevo l'ansia della tipa che mi inseguiva e non ho visto il vaso. Thanks. Oh no, oh no. Prendi le bombe. Tieni premuto. Open the door. L'ho presa bene. Ok, 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 ok. Ti ringrazio per il complimento. Oddio, che lag. Ma perché quando ci sono i moschini mi lagga così tanto? Mi hai mandato all'aria la caccia. Ah, pensavo la casa. Ti avrei sicuramente capito di più. Maledetto. Ah, ti fa male la mia pistoletta, eh? Una pistoletta molto potente. Signora. Ho potenziata grazie a tua sorella. E a tua madre. Aiuto. Sei un bastardo! Sì, me lo dicono spesso. No! Dolore. Dolore e morte. Brava, stai lì. Sei finito! Ho avuto un momento di... Oh, bastarda! Mi aspettavo che mi corresse incontro. Prendo le armi grosse? No! Ma perché? Ma niente, la prima mi attacca e poi mi dice perché, piange. No! Oh, chissà! Non puoi! Scappare! Sai la mia! La mia preda! Via! Ok. Oh, era forte questa qua, eh? Forza, forza. Pure! Uccisa e insultata! Sì, ma raga, adesso Dimitrescu... Ok, non credo di dover uscire da qui. Adesso la di Dimitrescu sarà molto arrabbiata. Questa è la seconda figlia che le facciamo fuori. Non so come potrebbe prenderla, effettivamente. Veschio di animale su una base. Ha attivato qualcosa? Si è riaperto. Diamo un'occhiata alla mappa. Sala del piacere. Sa che devo craftare di nuovo qualche pozza, però. Sì. Comunque, chissà perché quando arrivano tutti quegli insetti lagga così tanto. Forse perché c'è troppa roba, eh? Magari con ray tracing... Lagga, vai a capire. Oh no, qui è chiuso. Non posso più tornare indietro? Magari se apro... Cioè, se rimetto la testa... Posso riprenderla? Faccio tipo una corsa? Corri! No. Ok. E se ci metto quella della mestizia? Niente. Non posso prendere la testa. Il teschio? Grazie, guys. Sì, comunque è molto bello. Mi piacciono moltissimo anche le parti di investigazione. Sono un sacco fighe. Ah, siete dei geni. Guarda, genius! Ma dai! Ma ve la sfemissima, sape. Questa statua. Non ha sentito. Facciamo piano piano. Aspetto che la signorina Dimitra... La signora. Signora Dimitra è scuscenda. Anche perché non sa che ha fatto fare un'altra delle sue figlie. Potrebbe non prenderla proprio bene. In alto? Ma qui? Corridoio in alto subquadro? Ciao, Murgio! Sì, è molto bello. Ma tipo qua? Ah, dove ho visto Lady? Comunque questa parte qua mi ricorda... Ah, avete ragione. Eh, però se sparo mi sgama. Vabbè, tipo sparo e corro. Forse non c'è bisogno. Non so se vi ricordate il Resident Evil 7 quando c'era la tipa che faceva su e giù dalle scale. È simile questa parte. Mi ha sgamato fortissimo. Mi ha sgamato fortissimo. Oh, cacchio. Possiamo parlare! No! Non mi fa passare, raga. È grossissima. Ok, ok. Ci passo, ci passo, ci passo, ci passo. È grossa, eh. Se mi blocca è finita. Di qua... Vediamo, aspetta. Allora. Stanza del mercante... C'è una stanza qua? Ah no, qui dove c'è l'ascensore, mi sa. Dunque. Là mi serve un primadello, ma non ce l'ho. Sala degli angeli... Non credo ci serva ora. Sala dell'avoluzione, sala del piacere. Dove dobbiamo risalire? Credo di dover risalire. Da qua scelto. Non ricordo a cos'era collegata questa... Andiamo. Ah, ok. Sono solo al piano di sotto. Possiamo già iniziare a metterci qualcosa qua. Tipo. Allora, la maschera del piacere... Aveva quattro punte. Quella della mestizia, non ricordo. Due. Siamo abbastanza mesti. Apro uno... E apro due. Ah no, aspetta. Qua è. Ho aperto due porte. C'è ancora quella stanza da aprire. Qui mi serve un grimadello. Che non ho. Oh sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Aspettazioni. Non fanno mai schifo. Quindi. Camera da letto. Devo tornare in cortile. Ok. Cortile. Ciao, Alexandra. Ciao a chi si è appena connesso, ragazzi. Stiamo giocando a Resident Evil 8. Bellissimo. Tu, schifoso forestiero. Eeeh. No. Teniamola più presto. Aspetta, io mi perdo in questa casa gigante di qua, la sala da pranzo, ok? Eh no, 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 no. Non mi serve la bomba adesso. Chi è? Oh shit. Eliminiamola subito. Ok, via. Non abbiamo molto tempo. Salve. Via, 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 via. Oh cacchio. Ok, dice, ho graffiuso. Cacchio, c'è ancora Lady Dimitrescu alle spalle. Eeeh. Di qua. Vai. Chiave di alcina. Non farmi perdere. Oh no, 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 c'erano alle spalle. Oh. Male. Chit, chit, chit. Oh. Ma dove, raga? Ma che male fa questa? Ma gli scatti, non me li aspettavo. Scatti furiosi. No, cacchio. Quella si è rialzata. Via. L'ho raccolta la roba, sì. Via, 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 via. Ok. Oh no, chiusa. Mappa. Nice. Abbiamo la mappa della Dependanza. Ok. Perché mi sembra di sentirla qui? Attenzione, il rossetto della signora è sparito. Chiunque lo trovasse è pregato di riportarlo nel suo bagno. È stato fabbricato appositamente per lei ed è molto costoso. da governante. Questa fa rabbia se le rubano il rossetto, eh. Sclera male. Credo che qua la chiave di alcina possa aprire. No, infatti. Allora, per tornare giù dobbiamo andare dall'altra parte. Qui sembra un piccolo cieco. Vai, non voglio sprecare munizioni. Ok. Sfera con fiori e spade. Questa sfera con fiori e spade potrebbe servire per il labirinto, forse. Non lo so se posso stordirla, le di Dimitrescu. Sai? Viene sempre un colpo con questa. Ah, ok, è bastato. Ah, scassinare. Non ho... Non ne ho più. Risorse. Vediamo. Sì, la soluzione una la facciamo e... Farei anche dei proiettili così quasi. No, teniamoci lì per la salute, perché effettivamente non so se poi potrebbero servirmi. Ok, sembra che abbiamo eliminato le minacce, quindi possiamo andare più fuori calma. Per il momento. Sarebbe tanto bello un gremandello. Una forte. Oh. Ah, devo risuonarla? Oddio, raga, io non ricordo. Io non ricordo le note. Ah, però me le fa vedere. Ok. Ok. No, sopra. Ok. Ok. No, perché me lo risuoni? Sogno. Oh. Chiave con stemma di ferro. Fico. Nome scientifico nessuno. Misura 5-6 centimetri. Struttura del corpo simile a quella del moscone, con delle differenze nella testa. Sono carnivori e consumano carne voracemente. Per catturare la preda, si raccolgono usando i feromoni per replicare la figura di un essere umano. Nate dalle uova, deposte dal cadù, nell'organismo che lo ospita, le mosche non sono in grado di riprodursi. In che senso? In che senso non sono in grado di riprodursi? Sono sensibili ai cali improvvisi di temperatura. Se la temperatura scende sotto i 10 gradi, il loro metabolismo rallenta fino ad arrivare a uno stato dormiente e criptobiotico. È un fenomeno simile alla criptobiosi dei tardigradi. O dei polipedilum. Vanderplanky. Sono mosconi, sì. Quindi sappiamo di che cosa sono composte le figlie della Lady. Sono fatte di quei mosconi lì. Per quello sono così sensibili al freddo. C'è ancora qualcosa? Mi sento soddisfatta finché non vedo le stanze blu. Sono. Ok. Qui dove c'era Lady Dimitrescu prima. Dunque, allora, qual'era quella porta che non potevo aprire? Era qua nel cortile, forse? Andiamo. C'era una porta che non riuscivo ad aprire. Non era qui. È questa. Devo salire. Aspettito molto. Se la porto qua, la faccio avvicinare, faccio il giro e corro di sopra. Vai, corri, corri, corri. Che questa poi fa gli scatti velocissima. Oh no, è chiuso! Corri, 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 corri. Sono perso un attimo. Di qua. Ok, poi di qua. Era qui la porta, mi sembra. No, sono tornata dove ero prima. Dall'altra parte. Shit. Ok, mi perdo. Non è qui. Raga, ho un senso dell'orientamento veramente... Di un lemure. Vai, 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 corri. Ecco la porta. Vai, 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 vai. Non è questa? Ma sì, è questa, è questa. Panico. Ok, troviamo una finestra. Sì. Madonna, quanto lago però, raga, quando ci sono i banchini. Sì, ma raga, non ho possibilità di difesa. Cioè, sto laggando. What? Corri, corri, corri. Che cattiveria. Da dove viene l'aria fredda? Da qua. Vieni, vieni. Perché mi fai questo? Niente. Mentre lei tenta di uccidermi. No. Vieni, stronza. Perché mi tratti così? Ma sei cretina, ma cioè... Che linee di dialogo sono, guys? Chi ne ha scritti sti dialoghi? Ah, freddissimo. Devo farla venire qua e poi aprirglielo. Vieni. Dai, ridi. Così mi uccidi. Allora non mi amo. Ah, sei rimasta male perché non sono innamorata. Siamo, bell'Eda. Tutti gli altri erano così felici. Un sogno. È solo un sogno. Saresti parte di me per sempre. Che culo. Eh, ma che palle però. fa che mi conviene andare con questo. Almeno faccio sul serio. No, non è che vuole solo essere amata. Vuole essere amata da tutti. Che è diverso. O devo aspettare che venga più avanti, non lo so. È impazzita. Sì, ma dai, anche basta. Morire. È andata, è andata, è andata. Basta, insetti. Con che pacatezza me lo stai dicendo, Ethan? Basta, insetti. Cioè, quasi annoiato, capito? Cioè, si era stufato. Oddio. Cioè, sono d'accordo, per carità. La signorina era un attimo impertinente. Però dai, basta. Allora. Ah, vasi. Ho preso tutto? No. C'è ancora qualcosa. C'è ancora qualcosa qui. Ah, sala della gioia. Quindi probabilmente ci sarà un'altra testa nella sala della gioia. Oh. Ok, abbiamo preso tutto. Posso andare in pace. E felice. Povera Lady Dimitrescu, sì, le abbiamo fatto fuori un'altra figlia. Non è che ho un grimaldello. No. Devo assolutamente craftare però una soluzione medica. Menomale che avevo ottenuto i materiali. Le mie mani di ordine. La sala del Gaudio. Che su umore? Gas? Atelier. Aspetta, 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 aspetta. Prima sblocchiamo quella porta. Ecco. Ok. Che non si sa mai. Fa sì che le cinque campane risuonino. Che bella! Lady Dimitrescu da giovane. Bellissima. Ok, fa sì che le cinque campane risuonino. Ho fatto risuonare una ma non vedo le altre. Ok, vediamo dove sono le altre. Ok. Probabilmente saranno nascoste da qualche parte. Magari sono qua su. Ah, eccola! Là ce n'è un'altra. Due. Tre. Sono cinque in tutto. Gli aperti. Dove sono le altre due? Come minimo... Ah, eccola! Quattro... E mi manca la quinta. Ok, devo capire dov'è... Dov'è la quinta. Dovevo usarlo. Mi è scriccato fortissimo. Acqua da qualche parte. Ecco, io non trovo la quinta. Eccola! Wow! No, vabbè raga, sto gioco è una figata. Raga, sto gioco è bellissimo. Ah, tranquilla, Serifia. Tanto stavo cercando per conto mio. Non stavo volutamente guardando la chat perché immaginavo che ci sarebbero stati spoilerini. Però sì, raga, non fate spoiler. Tanto, cioè, ci si arriva. Non è particolarmente complicato. Mh, molto bello, sì. Veramente un lavorone. Potevano sbattersi e scrivere le figlie decentemente? Oh, che senso. Distruggo vasellame perché sì. Siamo in mansarda. Oh, è la capretta. Non voglio sfruttare un proiettile, vabbè. Non sono in ambientanza. Ciao, Lordi's Comfort! Grazie per i 28 mesi, Lord. Thank you, thank you, thank you. Grazie per il supporto. Non vuoi fare pensieri strani? No. Mezzo un pensiero strano, qua. Lo sapevo, lo sapevo che sto bastardo si alzava. Dai, alzati adesso. Il mandello. Pappa del tesoro. Guys, il tesoro. I tesori li voglio, i tesori. Ogni volta che sento parlare di tesoro mi viene voglia di tornare a giocare a Sea of Thieves. Chissà quanto roba hanno messo. Pare che da qualche parte nel castello ci sia un certo pugnale dei fiori della morte. Si tratta di un cimelio risalente al Medioevo, rivestito da una mistura di veleni provenienti da tutto il continente. Fabbricato per uccidere demoni e mostri. Sembra un oggetto affascinante, ma nessuno sa dove si trovi. E' il tesoro. Le braccia di titanio. In realtà Fate le ha tipo Slimer. Perché dopo... Fucile da cecchino. Dopo aver visto che si riappiccica le braccia come se niente fosse. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Documenti. Credo sia nei documenti. Consigli? No, aspetta. Dove me le mette le cose, le mappe? Forse tra gli oggetti. Ah, consiglio. Ah, è qua. Mappa del tesoro. Frammento di una sudicia mappa del tesoro. Kitchen dungeon treasure. Scala a scala. Allora, qua c'è la cucina. Oh no? C'è chiuso. Nella barra di quel nobiluomo c'è un cimelio di grande valore, ma non è facile accedervi. Ci vuole la giusta illuminazione. Ci arrivo dalla cucina. Devo capire. Allora, è un posto dove c'è la cucina e ci sono due scale. Vediamo un attimo. Intanto c'è qualcosa che devo prendere all'atelier e... Bellissimo. C'è qualcosa che devo prendere all'atelier e mi triggera un sacco non averlo fatto prima. No, torre. No, vai giù. Sala dell'opera, biblioteca. Sala del piacere. Ci sono un sacco di stanze dove devo ancora prendere roba. Quindi poi devo tornare. Cucina. È da qui. È qua. È questa parte. Ok. Dobbiamo scendere. Intanto qua ho esplorato tutto. Forse. Sporriremo subito. C'è ancora un oggetto che devo prendere. Questi... Ok, no. No, 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 no. Non ho raccolto roba. C'è ancora qualcosa. No, quelli non erano decisamente corvi. C'è ancora un oggetto che ci manca qui dentro. E non è qui. Uh, stasera ordino... Ordino da mangiare. Mangiamo insieme. E non stacco per la cena. Eccolo. Oh. Posso andare in pace. Oh. Adesso. Oh. Madonna. Mi sono presa un accidente. Ho tipo sparato dalla paura. Ah, ecco perché ha il fucile di precisione. Oh. Ma che cavolo è? Cthulhu? Ma che roba. Sono tipo degli adepti di Cthulhu questi qua. Allora, fucile di precisione, equipaggia. Aspetta, me l'ha messo al posto di cosa? Vorrei mettere al posto di questo. Ma si può? Scelta rapida. Su quattro. Ok. No, vabbè. Mamma mia, quanto si muove. Wow, un'ala cristallizzata. Cavoli, si muove tantissimo. Non riuscivo a colpirlo. Scusate. Scusate, è per una roba di lavoro che... Non mi ha capito. Ok. Scusate, è un attimo l'interruzione. 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 Scusate, è un attimo. Scusate, è un attimo l'interruzione. Allora... Allora... Cioè, questo è tutto il tetto, in pratica. Si muove veramente troppo. Vediamo se riusciamo a farli fuori da qui, questi. Non voglio più sprecare quelle munizioni, se riesco a usare la pistola è meglio. Cacchio. Ma se li faccio cadere di sotto però non mi droppano i soldi. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. No raga scusate. Una roba di lavoro che è un casino. Ciao, baffi croccanti. Siamo sui tetti. E cerco di non farmi ammazzare da dei robi mezzi pipistrelli, mezzi adepti di Cthulhu. Si capisce bene. Simone. Oh no. Questi sono quelli che ho fatto fuori prima Sento ancora musica brutta Quindi vuol dire che ce ne sono altri in giro Ne sono ancora Non li vedo però Ehi, bentornati Ah, già scopo Beh, spero che la prenderai allora In bocca al lupo Saliamo il campanile C'è ancora roba Sa che possiamo usare quel rampino lì Ma non prima di aver preso tutto il prendibile Vediamo un attimo Come minimo ce ne saranno ancora Non li vedo Oh, aspetta C'era qualcosa che sveglucicava No, sa che me lo sono sognato Sì, in effetti Sì, trovare le munizioni Nelle casse in giro È abbastanza tipico Dunque Devono esserci sicuramente Degli oggetti qua da qualche parte Perché mi dà ancora la zona rossa Ah, vedi Devo fare il giro Praticamente dall'altra parte È ancora qualcosa qui Che possiamo prendere L'ho esplorato Abbastanza bene Guardiamo bene sui tetti Potrebbero esserci grimaldelli Altre cose Ciao Dario Buonasera È bellissimo Sto Resident Evil È proprio bello Bello Sta piacendo un sacco Altro vaso Te C'è ancora qualcosa L'ho esercizzi L'ho esercizzi L'ho esercizzi Scusate È una cosa di lavoro importante L'ho esercizzi L'ho esercizzi L'ho esercizzi L'ho esercizzi L'ho esercizzi L'ho esercizzi No raga Ho fatto Scusate È una cosa che spero si riuscirà a risolvere Sorry Allora Mi mancavano ancora degli oggetti Quassù avevamo già guardato E non ho trovato niente Cos'è che mi manca ancora Mi manca qualcosa Potrebbe anche essere uno sveglucichino da colpire Vedete che mi dà ancora il tetto in rosso Come se mi mancasse qualcosa Perché se vado dentro qua Eh ovviamente torno in mansarda Non posso capire Ti sembra la torre centrale? Qui? Questa parte qua che manca Dici? Vediamo eh Allora da qua Qui abbiamo perso tutto Ok dai Allora da qua Allora da qua Allora da qua Allora da qua Buona cena Chi va ragazzi? Wow Prestissimo Col fucile di precisione Dici? Se manca qualcosa? Eh Ma guarda Ho il terrore che sia magari Sai Uno sveglucichino Il lucichino Diceva Fino a tetto Dove c'è qua la torre Ah ma io lì ci posso scendere Con Cioè mi ci posso lanciare Non mi sono lanciata prima Quindi possiamo provare a lanciarci Dai vediamo Da di qua Perché poi c'era anche l'ascensore Magari buttandoci Dal cavo Riusciamo a trovare L'ultima cosa che manca Dobbiamo così Bene Dippi È bellissimo Veramente molto bello Bene Mi è rimasta in mano Ah Guarda un po' Torre della furia Ok Adesso posso uscire Abbiamo l'ultima maschera Però No Non ho comunque trovato Mi sa L'oggetto mancante Mi fa rosicare tantissimo Questa cosa Magari te dici il drop sul tetto No è blu qui Non è blu di là Guarda Qui è ancora rosso Vedi Quindi c'è ancora qualcosa Vabbè ragazzi Come minimo sarà un drop Di un gargoyle Che magari è caduto Da lassù Probabile Sarà stato il drop Di qualche gargoyle Dai prendiamo L'ascensore Fa niente Ci abbiamo provato Sì come minimo È un oggettino Che è rimasto Nascosto Da qualche parte I soffitti No beh sai Non è che viene Proprio spontaneo Guardare il soffitto Il lucchichio dove pensavi Di averlo visto C'è veramente Ah sì Ah allora Avevo visto bene Ok Ah già Allora c'era davvero qualcosa Beh raga Probabilmente Se era solo Per il lucchichio Sicuramente Era il cristallino Sapete Quei cristalli Piccolini Che si trovano Qui perché mi dà rosso Però Pizza Mi dà tutte le zone rosse Io sclero Quando vedo le zone rosse Ciao Norin Grazie Norin Per l'Ari Sabina Grazie per i 29 mesi Grazie Grazie È bello Stai bene Come va Allora andiamo a mettere L'ultima testa che manca Stupido Moncolo Scherzavo Scappa pure quanto vuoi Molto presto morirai Proprio schertone Salve Sei rimasta male Dove bevi? Cin cin C'è rimasta Siamo qui per il lucchichino Allora Il lucchichino Che credevo Di aver visto E c'era davvero Avrei questa Interessante A parte di aspirapolvere Mentre salgo Verso il cielo Allora Lucchichino Lucchichino Non mi ricordo Però dove l'avevo visto Qualcuno si ricorda? Dov'era? Si Non posso più prendere il cavo Guys Si è rotto Si è rotto Ah dalla zona del rampino Lo vedo Devo risalire allora Thanks Ah adesso Ma lo possiamo riprendere lo stesso? Ah perché mi è rimasto in mano Allora non si è rotto Comunque io ricordo Che avevo visto Uno sbrulucichino Ma non ricordo Eccolo L'ho visto adesso Ho caduto qualcosa Grazie guys Era lì E infatti adesso No aspetta Adesso mi da blu questo Dopo che l'avrò preso Mi dovrebbe Ripulire la zona Si c'è il rampino Ah eccolo Guarda Raga c'è le manie di completismo Era da prendere Non si poteva non farlo Ci stavo male fisicamente Grazie guys Per la manina Andiamo a vedere Come sarà passale Di Dimitrescu Che non l'avrà presa bene Probabilmente La signora è qua Che mi aspetta Mi sa Era lì che mi aspetta Diventerà il nostro vino Non voglio diventare vino Vino E poi non sono vergine Scusami Non voleva il sangue di vergine Cos'è che dice sta creatura? Ci sono anche cose Non completate nel cortile Comunque Dunque Allora Atrio principale Di qua Corri 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 Voglio andare prima Dal mercante Mercante Proteggimi Grazie a tuo continuo supporto Ho potuto ampliare I miei servizi Che incredibile Prego allora Dai pure un'occhiata in giro Chiedo protezione Signor mercante Frammento di cristallo Cranio cristallizzato Ah la cristallizzata Wow Valgono un botto Un bustino Un anello d'argento Questo non te lo do Perché secondo me Potrebbe essere utile Dovrebbe da stare Ok 29.000 Ho qui delle novità Proprio per te Signor Winters Io farei potenziamenti Allora Prima finiamo la pistola Queste mani Sono più capaci Di quello che sembra Potenza Più potente ancora Capacità Velocità Di ricarica Ah io potenzio tutto Sì Solo un attimo Prego Questo è già potenziato Wood E Non è che mi frega Molto il potenziare Questo Potenzio questo Oh non mi stupisce Perché il cechino Di solito Shotta Quindi Non lo so Lo vedo un po' Uno spreco Adesso potenziare il cechino Sto articolo Grazie per il tuo supporto Ok Staviamo Adesso abbiamo le armi Molto potenti Very much Hai visto Il cicchio Mentre salivo Con l'ascensore Ah sì Fare un giro Nella stanza Del mercante Sì E guarda Ero qua adesso Ero qui In questo momento Non credo Venga di qua Oh Franzo Ciao Ma guarda chi c'è Quanto tempo L'ho già montato il grilletto Me l'ha montato in automatico Me l'ha già montato Grazie Franzo Bentornato Una cosa che non ho fatto Ah sì Ah Allora qua Non so se posso Utilizzare qualcosa Se la sfera Infatti aveva detto Di utilizzare gli oggettini Thanks Ah carino Fare il puzzle Oddio vomito Ma Di egg dude Fammi dire un po' di nausea Sta cosa Ammetto Andiamo piano qua Andiamo piano qua Che figo Che figo Come minimo me lo paga un sacco Quel teschio cremidi 8000 Nice Di grande valore Yes Vediamo cosa possiamo comprare Con quegli 8000 Allora Abbiamo il progetto Per le munizioni del fucile A questo punto Progetto per la mina Una pozzoncina Ecco cosa stavi puntando Sono in grado di eseguire Qualsiasi modifica In una buona giornata In una buona giornata Very nice Ora ne abbiamo di roba figa Ok ci manca l'ultima maschera No aspetta Sorry Sbagliato Qui allora è gioia E qui è furia Open the door Open it Please Presto ti pentirai Di aver profanato Il casato di Mitresco Sei bene? L'ho sentito tossire Perché stava fumando Sì avevo salvato Però risalvo No avevo già salvato In realtà Non hai alcuna via di scala Vero Mi si è chiusa la porta Davanti alla faccia Poverina Mi sento quasi in colpa No No Non sia mai È rosso Eh vedi È ancora rosso Oh Molto bene Sì il tipo Era lì che fumava Tranquillone Sala della devozione Oddio mi sono cagata Adosso Dario Grazie per il regalo D'Alessia Grazie mille Ciao Alessia Buonasera Spero tu stia bene Grazie 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 Dario Thank you Grazie a tutti Tutto Il mio tesoro No Ok ora è molto arrabbiata Carne Carne Mossa Ti sbraderò Un mezzo Per Forse era il caso Di potenziare Il fucile Di precisione Ora il tuo aspetto Mostra quello Che sei realmente Strega di merda Sono tutte di merda Le streghe Secondo lui Mi sa che devo sparare A lei Come te scurrile Ethan Oh no Non volevo sparare Però Va bene Non ha senso da qua Oltre le miranda Tu sei l'unico Per la fortuna Di vedermi così C'è un carosezzo Da pagare La tua vita No Non mi aspettavo Che sfondasse tutto Non mi aspettavo Guarda... E sti privati, non c'è che è mio! Lumi Oxy, sperare di poter salvare tua figlia dopo aver ucciso le mie! Uuuh! Schifoso parasita! Non mi ucciderai mai! MAI! Dici? Non, 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 non! Viens, viens, viens! ...di perfezionali... Grazie a tutti. Ti ucciderò! Ti ucciderò! Molto sicura di sé per una che si sta prendendo un sacco di colpi in faccia. Strega maledetta. Rosa è la nostra ultima speranza. Non la daremo mai a uno. Voglio più sangue ancora. L'ho presa. Hai scriptata questa scena. Voglio rafforzarmi! Merda, merda, merda! Non puoi andare da nessuna parte! Sufì! Non essere timido! Mostrami la tua paura! Adò, mi gira la testa! No! La tua paura! Ti mangerò fino all'ultimo boccone! Ma posso scendere da qui? Cioè, non mi fa più scendere, hai distrutto le scale. No! 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 Ma troppo dai! Non li vedrai mai più. Non l'ha presa bene, eh? Oh, sei qui, Lady Dimitrescu. Oh, ce l'abbiamo cristallizzata. Maledetta sarai tu! Ok, allora c'è qualcosa qui, oltre il suo cadavere. Ah, finalmente posso andarmene. Oddio. Possiamo abbandonare mi sala tenuta? Rose. Chissà perché ha detto che non potremmo più riavere la figlia, la bambina. No, non credo, Diego. No, non penso. Sì, era poco elegante effettivamente quando se n'è andata, povera Lady. Ho finito l'oggetto che mi era stato richiesto. Consegnalo alla casa del comignolo rosso. La troverai dopo aver attraversato le caverne e oltrepassato le ruvine. Ok. Casa con il comignolo rosso. Ok. Pausino un secondo che ordino da mangiare. Non so cosa. Cosa mangio stasera? Vediamo, vediamo, vediamo. Perché dovrei avere anche degli sconti super. Ora che ci penso. Mi erano arrivate un sacco di mail con un sacco di sconti. No, la pizza no. No, la pizza è una di quelle cose che, boh, mi rompo a mangiare, a ordinarla. Greco, sushi. Cinese, messicano. Oddio, sai che un po' di cinese effettivamente mi va? È un sacco che non mangio cinese. La pizza è rarissimo che io abbia voglia di pizza da asporto. Proprio raro, raro, raro. Cioè, di solito preferisco mangiarla in pizzeria. La pizza. Non mi fa mai impazzire mangiarla portata a casa. Perché, boh, a volte non arriva caldissima, a volte arriva tiepida. Non so, la pizza è sempre un po' un terno all'otto. Non è la mia cosa preferita da mangiare da asporto. Cinese ci sta. Sto guardando un attimo la mail perché mi era arrivato, sono sicura. Mi erano arrivati degli sconti su Uber. Ecco di qua. Suizio. Ah, avevo questo per i prossimi tre ordini. Fluffy, grazie per i 17 mesi. 17 mesi con questa bellissima community. Grazie mille, Fluffy. Grazie per aver risattato per il diciassettesimo. E grazie anche a Kuroi Rei. Kuroi Rei. Grazie, grazie, grazie. Kuroi, ben arrivato. Oh, anche gli arancini sarebbero tanta roba. No, vado per il China. China. Dunque. Un attimo che provo a mettere il codice perché avevo un codice sconto. Mi scontava un pochino sui prossimi ordini. Vediamo se me lo fa già mettere. Allora, consegna. Ordini. Ottieni uno sconto sul tuo ordine. Ok, questo. Eh niente. Devo, devo scegliere, devo ordinare. Allora. Abbiamo detto. Prendiamo China. Vado su... Cina asiatica fusion. No, sushi no. Sushi è un'altra cosa che da asporto non mi fa impazzire. Preferisco prenderlo allo Luke and eat perché prenderlo da asporto o spendi un rene. O non mangi un cacchio perché... Allora. Walking no. Vai. Facciamo questa trattoria qua. Cortini primavera, ravioli con carne alla griglia. Vai. Prendiamo i ravioli. Poi spaghetti di soia con gamberi. Io prenderei spaghetti di soia con gamberi. Sono i miei preferiti. Con zucchine, carote e germogli di soia. Sì vai, sono buonissimi questi. Poi... E basta. Anche perché di solito ti fanno dei piatti giganti. Magari mi prendo anche... No, basta. Non è utile che prendo 6.000 cose. Non so se prende gli edamame. No. Sì, i ravioli sono buoni. Ho preso i ravioli e ho preso... E ho preso gli spaghetti. Che gli spaghetti di solito sono... Sono belli e sostanziosi. Di solito ti fanno dei mega 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 piattoni. Dario, grazie per il regalo a Evie. Bentornato, Evie. Oh, che bello riaverti fra i draghi. Grazie mille, Dario. Thank you. Welcome back, Evie. Cinese. Non lo so. Ok. Ho proprio voglia di cibo... Di cibo China. Buono, buono. Poi... Esploriamo. Altra roba arrugginita. L'abbiamo già guardato. L'abbiamo già salvato. Oh. È vuoto. Che delusione. Chissà se adesso abbiamo qualcosa per poterlo far funzionare. Contenitore di vetro. C'è un emblema con fiori e spade. È troppo sporco per guardare al suo interno. Foto di tesoro, foto di famiglia. No, non credo di poter utilizzare per il momento nulla che ho qui. Oggettini e le latrine. Da dove usciamo? Questo è un cancello? No. Ci sarà una porta? Ah, ecco, infatti. Ero uscita dalla finestra e non avevo calcolato la porta. Sono una persona normale. Ah, qua ci serve una tronchesi. Una tronchesi, una tronchesina. Vediamo un po'. Ah, ma qui è dove è morta la tipa? È entrata, in pratica. Come arriviamo dall'altra parte? Dobbiamo capire come far scendere qua il punto elevatoio. Non abbiamo la tronchesi, quindi sarà per forza di qua. Evidentemente dobbiamo fare il giro e scoprire qualcosa dall'altra parte. No, perché qua abbiamo già guardato il draffiuso. No, secondo me dobbiamo capire come far scendere il punto elevatoio. Allora, dov'è che si mette il codice sconto? Si mette prima di pagare, sì? Ah no, aggiunge una promozione, ecco. Ok. Aggiungi articoli, no? Porca miseria, oh, te li nascondo nei codici sconto. Ecco, aggiungi una promozione. Ok, guardate. Metto il codice. Ho uno sconto sui miei prossimi ordini su Uber. Com'è scaduta? Vabbè, niente. Niente promo, allora. Pazienza. Ok, ordinato. Eh, niente, è scaduta. Ok. Ok, capiamo come tirar giù sto, sto ponte elevatoio. Quei cavi lì sono belli grossi, non credo di poterli sfatcare. Sembrano cavi in metallo. Di là c'è il mostro, però questa zona è già blu, quindi vuol dire che abbiamo già preso tutto quello che possiamo prendere. Quindi vuol dire che non ci sono altre cose che possiamo prendere. Ah, sono troppo grossi. Magari c'è un codice. Magari le corde queste. No. Devo capire, devo capire come, come passare di là. Minchia raga, ma ancora state facendo spoiler? Please. O backseating? Mamma mia, guys. Io adesso aspetto che compriate un gioco per sedermi di fianco a voi sul divano e passare tutto il tempo a dirvi nell'orecchio gira a destra, vai a sinistra, spara a quell'oggetto, apri la vetrina, finché non mi mandate affanculo. Ah, ho capire. Ah, ho capire. boh, non ho idea. Giuggiole? Buone le giuggiole. Mamma mia. Una delle mie cose preferite in assoluto, le giuggiole. Buonissime. Non è che dobbiamo usare questa. Devo saltare qua sopra? No. Sono meduse piccoline. Le giuggiole? Oh. Sono dei frutti buonissimi le giuggiole. Sono super buoni. Ci va il brodo. No, quello in realtà è un liquore, il brodo di giuggiole. È che io vedo lì una zona dove forse posso andare. Non so se qua... Questi sono dei cavi di metallo che non si spaccano. Vedo delle corde lassù, ma... Mi pare di romperle. No. Non lo so. Mi controlliamo meglio dall'altra parte, perché non so veramente... Ci deve essere qualcosa qua. O qualcosa che posso utilizzare con questo. Oh, se possiamo magari salire qui. O andare di là. Mi devo infilare nella latrina. Non so davvero. Non so. Non so. Possi vivere col cecchino? Perché qua per aprire questo non ho niente. Aspetta. Forse posso farlo saltare. Posso provare a tirargli una bomba, tanto... Ma che cazzo dici? Cioè, un lucchetto grosso così veramente mi viene giù se sparo? Dai, va là. Cioè, io già stavo pensando di fare una molotov. Tirare giù un lucchetto con la molotov. Ma vaga, è esciuta un'usata. Ok, vabbè raga. A posto. Dobbiamo sparare al lucchetto, ma... Sembrano creature. Ok, no, non sono piragna. Va bene. Poveri pesci. Credo fossero dei piccoli piragna. Ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi rinvochiamo, persi in tenebre eterne, perché ci affidiate alle mani del fato. Mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, noi attendiamo l'estrema luce. Bella vita e nella morte gloria, madre Miranda. Ehi, ti ricordi di me? Sono quasi morto in quel castello. Spiegami cosa sta succedendo qui. Come può un uomo essere quasi morto? Effetti. Solo un saggio può rispondere. Sai cosa intendo? E non ho ancora trovato Rose. Dove l'ha portata, madre Miranda? E' troppo tardi! O magari quasi troppo tardi. Verrà offerta in sacrificio. Una vita per una vita. Ma che razza di stronzate medievali! E' solo una bambina. E' solo una bambina. Gli emblemi dei quattro casati apriranno il sentiero che cerchi. La pianti di parlare per enigmi? Voglio solo trovare mia figlia. E' un enigma solo se non conosci la risposta. Devo far fuori quattro tizi. La scena della mano, Sanne, dai. Mi ricorda qualcosa. Scandalosa. Seppure ricucita la manica. Ehi, ferma! Tanto la chiave è mia! Chiavelata. Quindi, membri dei quattro casati. Quindi dobbiamo far fuori quattro tizi. Anche la bambolina creepy, quindi. Vai, qua non c'è da prendere niente. Ah, chiavelata? A questo punto. Sì, mi ricordo della mappa del tesoro, ma abbiamo già trovato il tesoro. Sì. Abbiamo trovato il tesoro. Rich quit out, addirittura. Ciao, Lady. Che cosa? Luogo della cerimonia. Ah, dove vogliono sacrificare la bambina. Forse è il flacone. Questo simbolo mi ricorda qualcosa. E' l'umbrella. E' il simbolo dell'umbrella, questo. Vediamo. L'umbrella corpse è stata qui. Fox. Ma, guarda, fino adesso mi sta piacendo molto. L'ambientazione è fichissima, il gameplay anche è molto bello. Ci sono solo alcune cose estremamente realistiche, però è pur sempre un gioco horror, quindi. Diciamo che è già di base il realistico. Però sì, la parte della mano attaccata mi ha lasciato un attimo perplessa. Majin, ciao, Majin Chris. Grazie per i tre mesi. Bentornato. Grazie super, super, super tanto per il supporto. Thanks. Grande. Grandissimo, già scocco. Intenta che tu abbia preso la ki. Allora, qua secondo me si cade. Ho armi molto più forti di prima. Questa miseria. Loro rimangono dei bastardi. Eh, ma questo è grosso, eh. Questo è grosso. Qui ci vado di shotgun. Questo è grossissimo. Ma dai, l'ho preso. Dovrei averlo preso alla prima. Ha anche droppato scarti di metallo. Oh. Una piccola capretta. Questo per far arrabbiare madre Miranda. Non so, qua ci serve una maniglia. Eh, ci siamo rimasti tutti per la mano. Ciao, Seth. Sì, mi sta molto piacendo. Bella l'ambientazione. Grafica bellissima. E mi piace molto anche come è stato realizzato. Solo che questi si muovono veramente troppo. Cioè, sono problematicissimi da colpire. E l'unica cosa che... Vabbè, allora da una parte a me non dispiace dover uccidere i mostri per prendere loot. Perché a me diverte comunque raccattare loot. È una cosa che amo fare. Però ero abituata comunque ai Resident Evil dove tu devi tenerti tutte le risorse, devi tenerti tutte le munizioni e non le devi sprecare mai. Perché altrimenti ti trovi poi a dover affrontare i nemici e non hai più risorse, appunto. Troviamone più di una. Nessuna di queste. Tra l'altro, sì, io adoro lootare. Quindi, in realtà, mi gusta abbastanza questo fatto che posso andare in giro a uccidere tutti. Ok, no, qua avevamo già fatto. Dunque. Vediamo un attimo. Perché mi faceva andare dall'altra parte. Non ho capito se è la zona vecchia, la zona dell'inizio. Che io arrivo da qui. Quindi per forza di qua. Oh. Cos'è il centro città? Altare. Bene arrivato. Oh, l'alcante. Ciao. Ha stato inutile. Caol. Ne sei sicuro? Hai di certo trovato qualcosa di prezioso. Non so se ha valore, ma... Beh, quello che hai tra le mani è proprio tua figlia. Eh? Cosa intendi? Prova a guardare un po' meglio. Non ho capito. Come la testa. Non so io. Rose... Non azzardarti a dirlo! Non... Non è possibile. Eh, sarà becchiavissima. Lo spirito di tua figlia è del tutto intatto. Possiede dei poteri straordinari. Chi... Chi potrebbe mai farlo? Puoi ancora salvarla. Salvarla? Da questo? Sei fuori di testa! A ovest del villaggio c'è un'abitazione dal Comignolo Rosso. Vai a trovare l'uomo che vive lì. Poi potremo proseguire questa conversazione. Basta perdere altro tempo. E dimmi subito tutto! Non c'è nulla che ti obblighi a fidarti di me. Ma hai delle alternative migliori. In effetti. Bello suo pattume. Ma è bellissimo! La scelta è tua! Ma piace, raga! Lui è un figo comunque. Mi piace un sacco il duca. Ottimo! Cercavo giusto qualcosa per passare il tempo. Guarda, adesso come se niente fosse. Allora. Lei di... Eh, oddio, non so se la devo vendere lei. Sì, probabilmente sì. Ma infatti è quello che stavo pensando anch'io. Cioè, l'hanno probabilmente liofilizzata la testa della bambina. Perché non so come faceva a stare lì dentro. Aveva quattro triplimenti. Evidentemente sì. Avrà gli stessi geni che a lui. Quindi si riappiccica le cose. Può essere. Dunque. Vediamo la Dimitrescu. Signora Dimitrescu. Addio. Oh, Lady Dimitrescu. Splendida anche da morta. Con quelle curve? Sì. Per favore, dai un'occhiata al mio inventario. Te l'hai presa volentieri, Lady Dimitrescu. Cos'è questo? Poggia guancia del fucile. Mirino telescopico, sempre per il fucile. Dunque. Buon partigianale. Ah, sì dai. Dammi il poggia guancia. Sì. Cavoli, ma costava tantissimo. Ah, ma questo è per il fucile però di precisione. Partigianali. Vediamo. Mia. Oh, potevo aumentare ancora l'inventario. Per dire che potenzierò ancora la pistola. Ah. 9.000. Cadenza di tiro, sì. Cosa? Ah, va bene. Io ho finito. Buona cena, Raph. Grazie per il tuo supporto. You are welcome. Quanta roba c'è qui? Questa era la chiave alata. Ciao, oggi boss. Buonasera anche a te. Grazie per la compagnia. Dai. Assurdo. Ok, allora. La casa col commignolo rosso è laggiù. È abbastanza vicina. Apriamo anche questa porta, già che ci siamo. Magari può servire. Ah, questa non va bene. Perro circondato da quattro ali. Quindi lo stemma... Ah, no, però ho detto... Eh no, allora no, vuol dire ci serve un'altra chiave ancora. Questa non va bene. Vediamo un po'. Queste porte erano tutte chiuse. Ma ora le possiamo aprire. Pozzo no. C'era una porta qua. Che cavolo è l'entrata di qua? Chiusa dall'altro lato. Ok. Allora, qua c'era un'altra porta ancora. Andiamo a vedere. Perché queste sono tutte le zone dove non potevamo andare all'inizio. Qui con un grimaldello possiamo finalmente andare a scassinare il cassetto che mi stava mandando fuori di testa. Non è qui. Sei? Dov'era quel cassetto? Sono nel posto giusto. Ah, era di qua. Oh, alleluia. Evviva. Oggi mangio il live, Jesse. Mangio con voi. Stacco stasera. Tardi. Molto più tardi. Ah, c'è ancora qualcosa. Questi li avevamo già letti. Magari c'è di nuovo una capretta a tutelare qua da qualche parte. Vediamo. Oppure devo veramente spaccare tutto? Dice che c'è ancora qualcosa qui. Capisco. Ah, ho provato. Ok. Vediamo, Lello. Vediamo quando stacco. Ciao, Heinsworth. Buonasera. Venone. Guarda, sto giocando a Resident Evil. Mi sta piacendo un sacco. Molto figo. Sì, era un boscatino. Di qua. E c'era una porta. Allora, qua c'è la chiesa. Anche qua dobbiamo prendere tutto. Andiamo a fare un giretto alla chiesa. What? Ma che cacchio? Data operazione 9 febbraio 2021. Arrivo al sito. Nessun segno di Ethan. Ethan Walters o Rose Walters. Winters. Ogni volta gli cambio cognome. Ingresso nel villaggio. Scontri con una serie di armi biologiche. Trovate tracce di Ethan Walters. Ethan Winters. Questo Walters. Posizione di RV sconosciuta. Base stabilita nella chiesa. Ispezione del laboratorio. Analisi dei campioni di moffa. Alpha. Ingresso nella fabbrica. Cioè, hanno stabilito una base nella chiesa. Tutto normale. E c'è ancora qualcosa qui. PC indistruttibile. C'è qualcosa. Uh! Nice. Poi. Allora, qua dietro c'è una chiave che possiamo utilizzare. Per aprire la zona. Oddio, aspetta. Non sono sicura di avere questa chiave. Vediamo. È forse quella con lo stemma di ferro? Sì. Era lo stemma di ferro. Stacco stanotte. Adesso mezzanotte. La capretta a tutelare. Oh, nice. Qui ci sono galline vive. Mi dice. Non voglio uccidere le galline. Non hanno fatto nulla, poverine. È chiusa dall'altro lato. Forse devo sacrificare le galline. Ehi! Un cristallo grande. Probabilmente questa l'apriremo dall'altra parte. Penso di finire tutto il gioco? No. In una sessione sola? No. Domani magari lo finiamo. Magari domani. Allora. Terreno incolto. Casa di Luisa. Vecchia città occidentale. C'è questa porta qua da aprire pure. Arrabbia Sam. C'è una capretta in uno di questi tetti? Questi qui? Oh, hai ragione. Guarda, l'ho vista adesso. Grazie. Era minuscola, non l'avevo vista. Presa la caprettina. Qui qua. Perché è chiuso? Shit. Forse se faccio il giro, vado da questa parte e passo da qua, posso arrivarci. Devo girare qui. Ah, però no, non posso passare nemmeno da lì. Ah, che uffa. Va bene. E allora, niente, andiamo avanti. Mi ricordo, era da questa parte forse? Sì. Ah, sempre il simbolo con quattro ali. Non è che qua devo metterci la testa della figlia? Sono i suoi ricordi. Ma ce n'era un'altra anche più indietro. Quindi dobbiamo trovare tutti e quattro i pezzi della bambina, mi sa. Eh sì. Dobbiamo praticamente ricostruirla. Vai, andiamo verso la casa con il comignolo rosso. Ah, ma non posso entrarci. Dobbiamo fare tutto il giro largo. Sì. Credo. Non ho appena sgozzato una capra. Che cavolo c'è qua sopra? Dobbiamo andare da qui. Oh no! Non ho abbastanza Grimaldelli. Ho sentito un urlo proveniente dalla casa col comignolo rosso. Stavo per andare a controllare, ma i detriti mi hanno bloccato il passaggio. Devo fare un giro più lungo per arrivarci. Chi avrebbe mai pensato che alla fine il buco nella parete della stalla si sarebbe rivelato utile? Se non sono di ritorno, entro domattina. Vai a casa di Luisa. Papà. Ah, qui era la... Era la casa di... Della ragazza e di suo padre. Stavano qui loro. Sì, mi sa che vedi, lei filava. Allora abitavano qui. Un male di legno, corpo. E c'è ancora qualcosa comunque lì, eh? Vabbè, ma penso la parte da aprire col Grimaldello. Ok, sono dall'altra parte. Cacchio. Ma l'avevo visto bene subito. Vado, quanto è forte. Sento le galline. Deve esserci un modo per muoverlo. Non con qualcosa che ho qui in questo momento. Sì, mi sa che è la zona dove... Dove era crollata la costruzione. Quella di cui parlavano prima. Mi diceva che volevano esplorare ma... Non... Ma era crollata una parte del tetto. Oh, si è andato qui. Vai, prima buttiamo l'occhio di qua. Chiusa. Ah, il fienile, sì. Ah, c'era qualcosa qui. Forse sopra. Forse posso entrare dalla finestra. No. No, c'è un'altra entrata. Non credo di poter fare il giro dall'altra parte. Ah, da dietro casa. Da qua, praticamente. Dobbiamo fare tutto il giro. Ah, no. Ok, devo spostare il trattore, ecco. Sì, sì, sì. C'è il trattore che blocca la strada. Buona cena, ragazzi. Buona cena a chi va. Mi aspetto dopo. Cos'è? Guarda fuori dalla finestra. Oh, è un codice. Madonna. Sono concentrata. A vedere il codice. Che bastardi. Allora, 07, 04, 08. Proviamo. 07, 04, 08. Pistola nuova? Ma no, avevo potenziato un sacco la mia. No, mi fa rosicare avere una nuova pistola, perché la mia era super potenziata. Una pistola completamente automatica. Vediamo dove l'equipaggiamo. Questa qua. Scelta rapida. La mettiamo al posto del cecchì. È arrivato il cibo. Bello. Castriamo tutto bene. Perfetto. Allora, risorse. Soluzione medica ce l'ho? Sono senza soluzione medica. Una la dovremmo craftare. Sarebbe meglio. Hai perso tre anni di vita anch'io, abbastanza. Sì, sì. Questo jumpscare mi ha proprio preso bene. Non me l'aspettavo. Questo mi ha fregato. Dunque. Adesso passiamo di qua. Dove ho visto? Dove ho visto io? No, ha chiamato tutti gli altri. Merda, lo dovevo far fuori col cecchino. No. La mia pistolettina. Erano tanti questi, eh. Alla fine non l'ho usata la pistola automatica. L'ho usata proprio. Questo. No. Così. Erano tanti questi qua. Ok. Qua sotto non ho... Non ho il grimantello, giusto? No, non ce l'ho un grimantello. Bisogna andare sopra. Arrivo, guys. È arrivato il cibo. Anzi, aspetta. Andiamo a salvare. Salvo e... Mangiamo. Sopra. Devo andare. Devo tornare qua su. Un sacco di loot. Dove mi sono andata a infilare? Ho una capacità di sbagliare case, porte, cose persone. E' incredibile. Ah, però almeno ho sbloccato la scorciatoia, dai. Tuttavia. Il caravaggio se non sbaglierà. Yes. Salviamo e prendo il China. fame, famissima. Arrivo, prendo il cibo. Sip. Gno donde l'ophistoire. Zip. Som. Facile. Ta. Questa. Questa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.